la rotonda di Senigallia oggi baciati anche da un bel sole. Benvenuti al secondo appuntamento di Banda Ultralarga, digitale e innovazione, leve per lo sviluppo economico del territorio. Passo subito la parola al sindaco che ci ospita, parola quindi al primo cittadino Massimo Olivetti. Buongiorno a tutti, benvenuti alla rotonda, saluto ovviamente l'assessore Andrea Antonini, saluto ovviamente anche al presidente di Confindustria regionale Pierluigi Bocchini e ai dirigenti regionali, ai colleghi sindaci, agli amministratori che vedo qui e a tutti quanti voi. Ovviamente parlare di digitalizzazione è sempre oggi questione più impellente e importante all'interno delle nostre realtà ed è una corsa che avviene direi a livello quotidiano. Serve anche per poter avvicinare il cittadino all'ente, poter rendere l'ente più fruibile ma soprattutto anche poter gestire meglio quello che di fatto è la gestione di un comune o di un qualsiasi altro istituto che abbiamo nel nostro territorio. La presenza di una banda larga ovviamente ci permette di poter avere una distribuzione migliore di quelli che sono dati, una connettività maggiore e su questo devo dire che gli impegni e l'impegno che è stato assunto da parte dell'assessore Antonini e in generale della struttura Regione Marche è estremamente importante per i nostri territori. Ecco perché ci tenevo ad essere qui anche se purtroppo dovrò partire molto presto per altri impegni e quindi vi lascerò nella discussione, lascerò i miei assessori che sono competenti a ramo. Era importante essere qui per poter appunto ringraziare le Regione Marche di aver scelto questo luogo come un luogo di discussione e di confronto con gli altri enti che si trovano nelle nostre zone e soprattutto di poter avere un momento di grande crescita per quanto riguarda anche i nostri responsabili comunali che sono anche essi qui oggi presenti. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie, grazie Sindaco. Passiamo quindi la parola per parlare di leve per la transizione digitale nelle Marche all'assessore regionale allo sviluppo economico e alla digitalizzazione Andrea Maria Antonini. Bene, allora grazie, buongiorno a tutti, bentrovati, sempre un estremo piacere tornare qui a Senigallia e poi in questa cornice, con questa giornata è ancora più bello. Io, ah, prendo questo, ok, sei meglio. Allora, ringrazio ovviamente il Sindaco e il Massimo Diretti con i suoi valenti assessori in Senigallia, nelle regioni siamo, quindi diamo le iniziative, lo dico sempre, con i comuni più abili che ci danno anche maggior soddisfazione, perché ovviamente la ragione ha una serie di programmazioni all'interno delle quali ovviamente i comuni devono trovare i loro spazi, inserirsi anche con delle iniziative ovviamente autonome all'interno appunto del vasto panorama di pianificazione regionale e con Senigallia riusciamo sempre a trovare degli ottimi spunti insieme, quindi grazie veramente. Un ringraziamento va per la collaborazione a questi due incontri, perché ne abbiamo fatti due, uno nel sud, diciamo, delle Marche e quest'altro qui a Senigallia, proprio per cercare di facilitare la presenza di amministratori, di stakeholders, persone, imprenditori interessate ovviamente all'argomento, quindi ringrazio per la partnership la Confindustria, in modo particolare il presidente qui di Ancona per Luigi Bocchini con il quale anche abbiamo condiviso altre iniziative, ricordo molto volentieri l'apertura dello sportello rivolto alle imprese proprio nella sede di Ancona quando abbiamo parlato di energia, perché è un altro argomento fondamentale rispetto alle nostre imprese e all'ecosistema imprenditoriale marchigiano. Allora oggi parliamo di digitalizzazione, ormai come diceva il sindaco Livetti la digitalizzazione è un qualcosa che ci riguarda quotidianamente, se noi pensiamo alla maggior parte delle azioni che ormai compiamo sia nei momenti anche non lavorativi che sul lavoro in qualsiasi azione negli spostamenti è ormai il concetto, lo strumento della digitalizzazione è più presente di quanto noi possiamo immaginare. Da un lato quindi la regione Marche vuole il più possibile cercare di far conoscere al meglio tutte le potenzialità della digitalizzazione sia nei confronti dei cittadini, qualsiasi cittadino. Noi la maggior parte dei presenti, buona parte dei presenti non è nata nell'era della digitalizzazione, sappiamo come ormai i giovanissimi giovani invece hanno una certa familiarità almeno nel crescere insieme al sistema digitalizzazione. Allora è importante che soprattutto coloro che culturalmente sono più lontani dalla cultura della digitalizzazione sappiano e conoscano quali sono gli strumenti e le possibilità. I comuni ormai la maggior parte dei servizi prevedono la conoscenza dell'utilizzo del sistema digitale, noi basti pensare che come regione Marche abbiamo tutta una serie di sistemi anche per le imprese per rispondere ai bandi che i quali presuppongono l'accesso alla digitalizzazione, ormai diciamo come dicevo prima ormai il nostro mondo si ruota intorno alla accessibilità dei territori, delle persone, delle imprese alla digitalizzazione. Quindi noi stiamo muovendo attraverso tutta una serie di azioni e di iniziative. Da un lato, ed è uno degli argomenti di oggi, la banda ultralarga, poi nello specifico ci sarà chi parlerà in maniera dettagliata di quello che è stato fatto fino ad oggi, di quello che ancora manca, perché è ancora un sistema che dobbiamo mettere perfettamente in esercizio però già con risultati importanti, il 90% dei progetti raggiunti, quasi il 70% dei collaudi effettuati, la possibilità poi di integrare anche le parti non raggiungibili della banda larga attraverso altre progettualità. Questo perché tutto il territorio deve essere coperto, tutte le famiglie devono essere raggiunte, noi dobbiamo assolutamente eliminare il divario che appunto c'è tra chi ha la possibilità sia di conoscere che di accedere, quindi le competenze, le conoscenze e l'accessibilità al digitale e chi non ce l'ha. È fondamentale. Io oltre all'uso quotidiano, quando penso appunto agli strumenti dell'innovazione e della digitalizzazione penso a un sistema ormai che deve essere sempre più, deve guardare sempre più alla competitività, penso alle imprese soprattutto, cioè le imprese che non si rinnovino attraverso sistemi di utilizzo della transizione digitale e tecnologica sono delle imprese che non sono assolutamente purtroppo ad oggi al tempo, al passo coi tempi dei mercati, dello sviluppo economico globale che in questo momento si richiede. Nella gestione delle aziende, nell'attenzione e lavorazione dei prodotti ormai i sistemi digitali sono fondamentali, tant'è che noi abbiamo dei bandi specifici, che la dottoressa, la nostra direttrice del Dipartimento sviluppo economico ce ne parlerà proprio perché vogliamo aumentare la competitività delle aziende attraverso il sostegno all'utilizzo del digitale e dell'innovazione. Abbiamo messo a disposizione ai comuni anche delle risorse perché la digitalizzazione può essere anche la possibilità di far conoscere e di valorizzare lo strumento per meglio valorizzare il proprio territorio. Abbiamo fatto un bando sui sistemi integrati digitali di 7 milioni di euro, abbiamo avuto più domande rispetto alla dotazione disponibile di risorse la notizia che pochi giorni fa abbiamo deciso di mettere ulteriore un milione e mezzo di euro che ci sono stati autorizzati per coprire tutte le domande che abbiamo ricevuto. Quindi tutti i progetti che ne sono 190 progetti in tutto il territorio regionale saranno tutti coperti dalla disponibilità delle risorse. Quindi l'invito ai comuni che erano i beneficiari di questi finanziamenti di coinvolgere il più possibile le reti locali tra associazioni, organizzazioni perché c'è la possibilità attraverso questi fondi veramente di creare dei sistemi, delle vetrine commerciali, dei percorsi culturali, turistici e quant'altro proprio relativi al territorio attraverso appunto vetrine digitali, strumenti digitali che si possono ovviamente poi diffondere in sistemi molto più larghi. E quindi questa è una possibilità che noi diamo perché crediamo fortemente a quel progetto, a quell'idea di borgo digitale diffuso che è proprio alla base del concetto della nostra regione. Altra cosa, ne abbiamo un punto lì di facilitazione digitale, altrettanto importante è il progetto della bussola digitale, ovvero anche qui un bando ormai chiuso, che però in qualche forma, in qualche modo, io sono convinto nel tempo dovremo continuare a farlo vivere e anzi crescere. Abbiamo creato dei punti, una settantina di punti in tutta la nostra regione dove c'è la possibilità di incontrare dei veri e propri facilitatori digitali, ovvero delle persone soprattutto giovani, che possono mettere a disposizione le proprie competenze sulla digitalizzazione per aiutare sia il singolo cittadino che ha bisogno di consigli specifici nell'accesso appunto a determinati servizi, l'utilizzo dello speed, faccio un esempio, ma anche per partecipare a dei bandi regionali, nazionali, europei per le imprese, quindi dei luoghi dove si facilita appunto l'incontro tra il cittadino e le offerte che appunto dei servizi che la digitalizzazione dà. La cosa simpatica che diciamo sempre che per la prima volta appunto sono i più giovani che in qualche modo insegnano alle persone più adulte, quindi c'è un po' un'inversione dei ruoli, il docente che diventa il ragazzo, l'alunno in un certo senso rispetto alla persona più grande e più adulta, ma proprio per il motivo che vi dicevo prima, che i giovani di oggi ovviamente nascendo nell'era del digitale hanno un linguaggio per loro quotidiano, cosa invece più difficile ovviamente per quelli della mia età e oltre, tanto per essere chiari. Quindi ecco questo è un progetto che coinvolgendo tra l'altro anche le scuole sta riscuotendo una certa attenzione e la nostra volontà è quella di raggiungere il più marchigiani possibili, un obiettivo con la prima parte del progetto mi sembra di 60.000, poi ce ne parlerà Andrea Sergiacomi credo, proprio per raggiungere più marchigiani possibili. Quindi ricapitolando e poi passando la parola al Presidente Bocchini, Digitalizzazione perché? Primo ormai è un qualcosa della quale non si può prescindere, è presente nella nostra quotidianità, riguarda cittadini, riguarda gli enti, io non ho parlato di tutto il sistema, cyber security, sistemi informatici, data center, comuni, regione, che è un altro argomento enorme, magari più per gli addetti ai lavori, ma anche lì c'è un mondo importante e sconfinato di dati, acquisizioni dati, pensate ai fascicoli sanitari e mi fermo, c'è un mondo veramente vasto. Quindi consideriamo questo mondo, consideriamo l'uso quotidiano del semplice cittadino, le imprese, le attività commerciali, immaginiamo l'e-commerce, la valorizzazione del territorio, la connettività, la digitalizzazione ormai è questo, è competitività, connettività, è condivisione, quindi è fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti necessari proprio per cercare di includere più persone possibile, coinvolgere più porzioni di territorio possibili, fare entrare dentro più imprese possibili, parentesi sulle imprese, ma è argomento sicuramente del Presidente Bocchini, le piccole e medie imprese sono quelle che hanno forse più difficoltà nel guardare all'innovazione per motivi proprio anche strutturali, oltre che di possibilità in genere. Per esempio la Regione Marche attraverso il Digital Hub Innovation che è un riferimento fondamentale di informazione e sostegno, un po' quello che noi facciamo con i facilitatori ovviamente qui in maniera molto professionale, per cercare di sostenere chi non ha quelle competenze, non ha quei mezzi per entrare e usufruire dei prodotti della digitalizzazione, ecco il sistema delle organizzazioni con a capo Confindustria nella Regione Marche si sta muovendo proprio in tal senso con ovviamente l'appoggio anche della nostra Regione. Quindi io ringrazio veramente tutti i protagonisti di questo incontro perché è un momento fondamentale per fare punto della situazione, ci sarà poi anche un dibattito, una tavola rotonda, quindi magari se ci sono delle questioni da sollevare o delle domande è l'occasione giusta. Quindi vi ringrazio veramente tutti per l'occasione di questa mattina e speriamo di andare avanti e di far capire anche al di fuori di questa sede dove bene o male saremo tutti più o meno o addetti ai lavori o interessati alla questione di far capire quanto ormai sia fondamentale cercare di diffondere il più possibile la cultura della digitalizzazione perché alla base, a monte di qualsiasi rivoluzione, chiamiamola così, ci deve essere un nuovo approccio mentale e culturale, è quello che dovremo fare e possiamo fare insieme. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie Assessore, allora lo ha già citato lui, passo subito la parola al Presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini, prego. Grazie, buongiorno Sindaco, buongiorno Assessore, grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli intervenuti, siamo stati coinvolti oggi come Confindustria per dare un contributo sul punto di vista delle imprese in merito al progetto appunto della banda larga e oggi devo dire che non possiamo neanche più parlare di innovazione nel senso che quando si parla di banda ultralarga e digitalizzazione delle imprese stiamo parlando del corrente, di quello che le imprese fanno tutti i giorni, quindi è di fatto già il presente e non è più innovazione. In Italia, come penso molti di voi sapranno, il progetto della banda larga anche a causa della particolare conformazione orografica del terreno è stato affidato in gran parte attraverso Infrate, una società del Ministero dello Sviluppo Economico del Made in Italy ad un operatore open fiber che sta di fatto andando a sopperire a quella che è la carenda mancanza di mercato, cioè coprire con la fibra quelle zone in cui gli operatori privati a mercato non arriverebbero perché antieconomico e non efficiente. Questo progetto è nato inizialmente e qui abbiamo forse uno dei primi vulnus nella progettazione, nasce con la progettazione di una rete che all'epoca era a 30 megabit al secondo. Nel frattempo la tecnologia si è evoluta, oggi stiamo parlando prima di 4G poi di 5GS, adesso addirittura abbiamo visto ai noi purtroppo in una triste esperienza che è quella della guerra in Ucraina, cosa significa il sistema Starlink, quindi connessioni digitali ad altissima velocità e stiamo parlando di 1000 megabit al secondo, quindi capite che un progetto che è nato sulla base di una certa quantità di dati prevista con una progettazione iniziale si sia evoluto in modo così rapido che probabilmente renderà necessario nel brevissimo anche una modifica della rete infrastrutturale esistente. Tutto questo perché? Perché io penso che tutti noi conosciamo Amazon, peraltro si sta insediando qui ma non parlo delle infrastrutture che avremo necessità di fare per l'insediamento qui, ne parlo perché noi tutti la conosciamo come un grande colosso dell'e-commerce che quindi si avvale della tecnologia per spedire i pacchi in tutto il mondo. Amazon nel 2023 ha generato ricavi per circa 600 miliardi di dollari, utili per circa 10 e se voi leggete i dati di bilancio che sono pubblici per una società quotata scoprite che Amazon sui 10 miliardi di utili che genera ogni anno ne genera 7, quindi il 70% dal clouding. Cioè che cos'è il clouding? Di fatto è un grande magazzino virtuale di dati dove le aziende, i privati, gli enti pubblici negli Stati Uniti in particolare tutta la grande amministrazione pubblica americana fanno uno store, quindi mettono dentro dei dati e poi li vanno a prendere quando ne hanno bisogno. Ecco voi capite che nel momento in cui io non ho più dentro la mia azienda, dentro il mio ente, dentro casa mia il magazzino dove tengo i dati ma li vado ad attingere ad un magazzino esterno se ho la strada, il cavo che mi porta i dati in azienda, a casa o nel comune lento, molti dei servizi di cui ho bisogno rischiano di o non funzionare o funzionare male. Questo è il motivo per cui evidentemente oggi il problema della rete digitale è diventato fondamentale. Fondamentale per le imprese perché nel corso degli ultimi 5-6 anni, dal 2016-2017 in poi, le imprese italiane e in particolare qui nelle Marche dove l'indice di manufatturiero è molto alto, sono state fortemente incentivate ad investire su Industria 4.0 e l'Industria 4.0 non è altro che la connettività dei macchinari e dei processi ai dati, a dei serbatoi dati. Parallelamente si è sviluppato tutto appunto il sistema del clouding, quindi le nostre aziende hanno al proprio interno macchinari e processi che funzionano in maniera digitale, quindi attingendo dei dati che molto spesso stanno al di fuori delle nostre aziende. Senza poi pensare a quella che è la teleassistenza, un macchinario che mi si ferma molto spesso, viene manutenuto, riparato in remoto, senza pensare a tutto quello che oggi è il lavoro in remoto, quindi il lavoro dei nostri collaboratori che si collegano da distante piuttosto che le riunioni che vengono organizzate proprio grazie alla connettività del dato. Quindi voi capite che se non abbiamo un'infrastruttura digitale adeguata, tutti gli investimenti che le imprese hanno fatto nel 4.0 e, aggiungo io, nel 5.0 diventano di investimenti inutili. Perché dico anche il 5.0? Perché oggi stiamo parlando sempre più di ESG, stiamo parlando sempre più di environment, quindi di ambiente, ma stiamo parlando anche di social e di governance. Voi pensate, se la connettività non funziona o quantomeno non è veloce come dovrebbe essere, a quante riunioni saremo costretti a partecipare in presenza piuttosto che in remoto? A quanti maggiori spostamenti tutti saremo costretti e quindi a quanta maggiore emissione di CO2 dovremmo fare nell'ambiente se invece avessimo una connessione funzionante ed efficiente. Ecco perché l'infrastruttura digitale diventa importante e fondamentale soprattutto per mettere a reddito gli investimenti che le imprese hanno fatto nel corso degli ultimi anni. E poi c'è la grande sfida dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale anche qui non stiamo più parlando di futuro, stiamo parlando di presente, che non è altro che una grandissima mole, una grandissima quantità di dati che attraverso degli algoritmi vengono rielaborati in tempo reale, messi al servizio dell'utente. Anche qui non esiste azienda, credo nella nostra regione, ma pochissime ce ne sono in Italia, stanno nascendo degli ipercloud in giro per l'Italia, quello di Emilia Romagna ne è uno dei casi forse più emblematici, dove ci sono delle enorme sale di immagazzinamento dei dati e tutti andiamo ad attingere là, proprio per far funzionare tutte quelle applicazioni e quelle tecnologie che si evolveranno lungo il filone dell'intelligenza artificiale. Bene, anche qui l'infrastruttura diventa essenziale. Voi pensate che in primo luogo la velocità di trasmissione, l'abbiamo detto, è fondamentale per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, ma poi l'intelligenza artificiale è molto interattiva, per cui se vogliamo far funzionare l'interattività dell'intelligenza artificiale abbiamo assoluta necessità di una latenza, cioè di un tempo di risposta alla domanda che faccio di dati che sia molto ridotta e questo presuppone appunto una velocità del dato rapidissima. L'affidabilità della comunicazione, perché sì è vero si può lavorare anche con qualcosa che non sia fibra, qualcosa che non sia cavo, ma tutti noi sappiamo che quando passa il cavo la comunicazione è molto più affidabile in termini di sicurezza e in termini di consistenza del dato. E poi tutto il mondo dell'IoT che sempre più lavora con l'intelligenza artificiale. Anche qui, l'IoT oramai è entrata in tutte le case, oltre che in tutte le aziende, in tutte le amministrazioni e voi pensate che cosa possa significare per le aziende se i device, i nostri telefonini piuttosto che gli elettrodomestici, perché oggi l'IoT è dappertutto, non riesce a connettersi in modo rapido con l'azienda piuttosto che con il server con il quale deve dialogare. abbiamo poi tutta la questione, qui andiamo un po' più sul tecnico, ma bisogna citarla, dello sviluppo delle leti neurali che servono appunto proprio per fare in modo che l'intelligenza artificiale riesca ad assorbire dati, ad imparare e poi a restituire il dato. Quindi la banda ultralarga oggi è diventato veramente qualcosa di una sorta di prerequisito per lo sviluppo delle aziende e noi dobbiamo essere pronti a fare in modo che questo prerequisito e questa precondizione per lo sviluppo sia disponibile alle nostre aziende. Aggiungo alcune piccole cose che però sono fondamentali non tanto per le imprese ma per lo sviluppo del territorio in termini di attrattività, dove comunque lavorano tante aziende. Voi pensate solo al mondo del turismo. Ci sono ad oggi ancora delle località turistiche dove la connessione è molto lenta. Immaginate sempre quando io, faccio sempre l'esempio quando entrate in una camera di un albergo e non c'è il segnale. Probabilmente è una delle prime cose, come si ricorda, quando viene in mente il luogo di vacanza, sì però lì non c'è il segnale, cambio albergo, cambio località. In termini di attrattività è fondamentale. Pensate al mondo delle università. Oggi gli studenti scelgono la sede universitaria fondamentalmente sulla base di alcune variabili, forse la più importante o una delle più importanti è anche quella di poter seguire webinar, lezioni e a volte anche fare esami in remoto. Se non abbiamo una base di connettività ultra rapida, le nostre sedi universitari, ne abbiamo ben quattro nella nostra regione, rischiano di essere meno attrattive rispetto a quelle delle altre regioni e per noi aziende questo è un dramma perché in un momento di denatalità e di calo demografico se non riusciamo ad attrarre giovani dalle altre regioni, noi aziende non abbiamo i giovani da poter portare all'interno delle nostre realtà. Concludo facendo un rapidissimo punto della situazione, anche se immagino che chi verrà dopo di me lo farà molto meglio in modo più dettagliato, però non è che non è stato fatto nulla, fino ad oggi di questo occorre riconoscere i meriti di un'amministrazione regionale che ha dato un'accelerata fondamentale sulla copertura della rete. Oggi abbiamo, correggetemi se sbaglio, circa 185 comuni più o meno già coperti dalla banda larga, le marche in totale ne hanno poco più di 220, quindi tutto sommato siamo già un buon punto, però esistono ancora delle sacche nelle quali la connettività purtroppo non c'è e come vi dicevo prima, laddove c'è a volte non è così rapida come le aziende invece avrebbero bisogno. Quello che le imprese chiedono è di terminare il prima possibile i cantieri già in essere perché è fondamentale e cercare di incentivare anche quelle forme di connessione a cui l'assessore ha già fatto rincenno per alcuni versi, che sono quelle forme di connettività che vanno a sopperire l'impossibilità di stendere il cavo in tempi rapidi. Teniamo comunque conto che secondo quello che dice Open Faber, ma immagino che verrà confermato, nelle marche sono già stati stesi quasi 5 mila chilometri di cavi, quindi non è che non è stato fatto nulla, però purtroppo bisogna fare ancora molto di più. Allora esistono delle forme alternative, parlavo prima di connessioni stelitari, ecco queste forme di connettività laddove non è possibile portare la connessione in via cavo vanno incentivate, come, questo ovviamente lascio la parola alla politica e all'amministrazione, ma andrebbero assolutamente incentivate perché le imprese, come avrete capito, senza connettività oggi non riescono più ad essere competitivi. Parliamo, lancio il tasso a voi la risposta, parliamo molto spesso di non solo digital divide, ma anche salary divide, cioè delle imprese italiane e in generale di un mondo del lavoro italiano che si posiziona in termini salariali a livelli più bassi rispetto alla media europea, ma soprattutto alle economie più competitive, bene, le nostre imprese per aumentare i salari hanno bisogno di essere più efficienti. Essere più efficienti significa aumentare il valore prodotto per unità oraria lavorata. Questo è possibile solo attraverso gli investimenti in tecnologia 4.0, 5.0 e per far funzionare le macchine in 4.0 e in 5.0 abbiamo bisogno di connettività. Quindi voi capite che l'infrastruttura è fondamentale non solo per il resto della nostra società, ma soprattutto per fare in modo che le nostre imprese siano in grado di crescere e assieme a loro di far crescere i propri collaboratori e lo sviluppo di tutto il paese. Grazie. Grazie Bocchini per il suo contributo. Parola quindi ai tecnici. Parliamo di innovazione e digitalizzazione per le attività economiche con il direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Marche, dottoressa Stefania Bussoletti. Grazie. Buongiorno a tutti. Come Dipartimento di Sviluppo Economico stiamo lavorando molto sul tema della transizione digitale, come sapete. Intanto ci siamo dati una strategia di ricerca e di innovazione che ha alla base proprio la transizione digitale che abbiamo inserito come un driver di sviluppo trasversale che riguarda e coinvolge tutti gli ambiti produttivi che abbiamo messo e individuato all'interno della strategia, così come tutte le nostre traiettorie di innovazione spesso sono proprio connesse alla transizione digitale. Proprio perché è importante appunto sostenere, come diceva il Presidente della Confindustria di Ancona, questo percorso soprattutto per le piccole e medie imprese e quindi di pari passo per il territorio, per i comuni, in modo tale che la Regione possa avere uno sviluppo inclusivo da questo punto di vista. Abbiamo attivato dei bandi già a valere sulla programmazione comunitaria 21-27. In particolare abbiamo fatto uno scorrimento molto importante su due bandi che erano proprio incentrati sulla transizione digitale, che erano appunto la transizione digitale ma anche il riorientamento dei mercati, nell'ambito dei quali per le PMI abbiamo fatto uno scorrimento rispetto alla dotazione iniziale dei bandi di 16,7 milioni di euro, quindi due bandi che hanno lavorato molto sull'aspetto dei processi produttivi aziendali ma anche della loro strategia di vendita perché ovviamente le aziende hanno la necessità non solo di lavorare sul processo produttivo ma sappiamo anche che tutto questo percorso digitale sta cambiando anche la modalità della comunicazione delle aziende e quindi questi bandi sono andati anche a supportare le PMI nell'individuare una nuova strategia di vendita che possa avvalersi degli strumenti del digitale e quindi poter lavorare sui propri siti, sulle piattaforme di marketplace, sull'immagine, sugli storytelling, sull'uso dei social, ovviamente tutto questo aspetto necessita di connettività, quindi è chiaro che c'è una stretta connessione tra ciò che stiamo facendo in termini di banda larga e ciò che abbiamo messo invece nei bandi per le PMI. Attualmente come sapete è aperto un bando di innovazione di prodotto digitale e sostenibile che è un bando di 28 milioni quindi un bando molto importante che è rivolto a tutti gli ambiti produttivi della regione Marche e che ha attualmente una scadenza prevista per il 28 di marzo che però vi comunico stiamo prorogando di almeno un mese e nell'ambito del quale parliamo di transizione digitale in termini di prodotto quindi nei bandi precedenti ne abbiamo parlato in termini di processi produttivi e di strategia di comunicazione in questo bando invece è un bando dedicato alla digitalizzazione all'inserimento delle nuove tecnologie in termini di innovazione di prodotto dove puntiamo molto sul concetto della twin transition quindi la transizione digitale abbinata alla transizione sostenibile quindi l'importanza che questi due temi vadano di pari passo per poter avere un aumento della competitività delle nostre imprese è chiaro che in questo bando abbiamo parlato di prodotti smart di metaverso di intelligenza artificiale di realtà aumentata realtà virtuale ed è chiaro anche come diceva appunto Bocchini è necessario assolutamente che tutto questo venga accompagnato da un percorso fatto nel territorio di connettività e quindi vi comunico appunto questa proroga che stiamo mettendo in atto in questi giorni quindi sarà di almeno un mese per questo bando. Per quanto riguarda invece i bandi che sono in corso di elaborazione come molti di voi sanno stiamo ragionando su un bando di start up innovative questo sarà un bando di 9,5 milioni di euro dove ovviamente ci sono davvero molte nuove imprese che lavorano su questi temi che sono delle eccellenze per il nostro territorio quindi anche la parte della nuova imprenditorialità si sta dedicando in misura significativa alla digitalizzazione e alla connettività e poi invece stiamo lavorando un bando che riguarda l'internazionalizzazione delle imprese che sarà un bando che andrà dai 10 ai 13 milioni quindi ancora la dotazione non è stata ben definita ma in questo bando dove si va a supportare la strategia di internazionalizzazione delle imprese anche in questo ovviamente tutta la parte del digitale rivestirà un ruolo importante nella definizione di queste strategie di approccio ai mercati esteri quindi in questo bando andremo a inserire diciamo degli strumenti che consentono all'impresa di migliorare la propria strategia di vendita sui mercati internazionali e chiaramente un ruolo importante avrà tutta la parte di supporto al brand e all'immagine quindi nell'ambito di questa tipologia di intervento metteremo ovviamente tutto ciò che consente l'impresa di usare gli strumenti appunto più attuali che sono la definizione appunto della propria immagine tramite social tramite anche gli storytelling tutto ciò che riguarda i digital export manager i temporary export manager quindi sostanzialmente una parte importante dedicata proprio alla comunicazione all'estero questo è più o meno il panorama che fa riferimento appunto alle piccole e medie imprese abbiamo terminato da poco il bando della ricerca come sapete anche lì abbiamo individuato molti progetti afferenti a questi nostri temi della giornata odierna e lì vi comunico che fra due o tre settimane saremo in grado di produrre le gradatorie di merito dei progetti arrivati sono arrivati più di 400 domande da parte delle imprese quindi una richiesta molto alta di 110 milioni di euro rispetto ai 45 milioni che avevamo messo a bando quindi stiamo terminando insomma l'attività di verifica dei progetti diciamo che più o meno questo è l'ambito in cui ci muoviamo come dipartimento poi verranno tanti altri bandi nel 2025 dove ancora una volta magari sarà l'occasione per incontrarsi una cosa che ci teneva a dire è che per i bandi nuovi che stiamo elaborando a breve partiranno i tavoli di lavoro dove la nostra intenzione è raccogliere ovviamente tutte le considerazioni, osservazioni e suggerimenti che vengono dalle associazioni di categoria dalle imprese e da tutti gli stakeholder che hanno fatto un lavoro enorme insieme a noi per la definizione di questi bandi perché nella nostra strategia abbiamo un po' cambiato la modalità di operare cioè stiamo lavorando molto sulla concertazione prima della pubblicazione del bando in modo tale che i bandi siano effettivamente concertati con il territorio e anche questi eventi che stiamo facendo sulla banda larga che avvengono da riunioni che erano state fatte con le imprese ma anche con le associazioni di categoria dove un'esigenza proprio emersa è quella di una maggiore comunicazione e una possibilità insomma di interloquire con gli stakeholder e con l'intero territorio quindi grazie a tutti per la vostra presenza e se ci sono poi delle domande siamo a disposizione grazie alla dottoressa bussoletti ora parola sugli obiettivi prefissati e sui risultati finora ottenuti insieme alla dirigente del settore transizione digitale e informatica della regione Marche dottoressa Serenella Carota grazie buongiorno a tutti chiedo di avviare la presentazione cercheremo di descrivere velocemente le quattro macro dimensioni su cui veniamo valutati dal punto di vista della digitalizzazione come sappiamo i fattori sono tantissimi ma gli elementi fondamentali sono questi quattro che vedete proiettati quindi il capitale umano, la connettività, ne abbiamo parlato tantissimo questa mattina l'integrazione delle tecnologie digitali e i servizi pubblici digitali come vedete i temi e gli argomenti sono stati trattati vorremmo per ognuno di questi temi consapevoli che ci sono tanti altri argomenti citare quali sono i progetti più importanti il capitale umano sicuramente è fondamentale perché non si può fare digitalizzazione se effettivamente non abbiamo le competenze sul digitale le competenze professionali e quelle specialistiche competono ad altri soggetti con il progetto bussola digitale vogliamo colmare il divario digitale relativo alle competenze quindi proprio quelle fasce più deboli come ha citato l'assessore Antonini all'inizio quindi questo tipo di servizio è un servizio più semplice ma che è rivolto a tutti quindi in questa giornata abbiamo voluto dedicare un punto informativo che trovate in fondo con indicazione punti di facilitazione digitale perché sappiamo che ci sono dei sindaci e magari il loro comune non è coperto ad oggi di uno dei punti di facilitazione digitale possiamo come diceva prima anche l'assessore anche se il bando è già nella sua fase di attuazione capire magari come creare un presidio presso un comune che non è coperto per alcune ore il servizio ad esempio che invitiamo a tutti ad usufruire è quello della verifica della copertura del proprio civico che è esposto diciamo nel sito Open Fiber abbiamo il sito Ife, abbiamo tanti strumenti ma ci consente di capire se siamo coperti e da quale connettività siamo coperti perché molto spesso magari vorremmo anche avere una migliore connettività e questa connettività è arrivata ma per qualche motivo ancora non lo sappiamo. Quindi per quanto riguarda la banda ultralarga vado velocissima perché poi sarà trattato sia da Infrate, l'abbiamo oggi qui l'ingegner Cudia e sia dal collega Sturari però voglio dare i dati sintetici perché proprio per capire l'impatto di questo progetto quindi qui trovate le unità immobiliari che possono essere imprese o industrie che vengono coperte quindi oltre 330.000 e la fibra che oggi risulta stesa è pari a quei 5.000 km metri che sono stati prima citati da Bocchini ma abbiamo anche fatto in questo budget abbiamo anche aumentato, abbiamo migliorato quelle che erano le cosiddette palifiche Enel e questo è molto importante in un territorio come il nostro che può essere sottoposto a venti, a nevi o altri. Quindi diciamo questo progetto ha portato come effetto collaterale benefico anche questo e come sappiamo a volte è stato un motivo anche di ritardo soprattutto nella fase iniziale. Qui trovate il dato della copertura rispetto all'incontro precedente i dati come vedete continuano a crescere perché i cantieri chiusi sono ancora di più e questo gap tra comuni chiusi e comuni con vendibilità è qualcosa che avanza diciamo di giorno in giorno. Andiamo al punto terzo su cui dedico una diciamo un pochino più tempo perché diciamo non viene coperto da altri colleghi il polo strategico regionale. Il polo strategico regionale eroga servizi in cloud grazie a un progetto finanziato dal MIUR a cui hanno partecipato 20 imprese del territorio, ha fatto riuso di un altro progetto sempre finanziato dal MIUR e utilizza un'infrastruttura cloud open source. Si è detto prima quanto è importante il cloud, noi abbiamo un cloud proprietario perché riteniamo che i dati pubblici sicuramente tutta una tipologia di dati debbano essere contenuti in un cloud pubblico. A questo cloud che eroga tutta una serie di servizi, ospitiamo servizi IAS cioè i servizi dei comuni o eroghiamo servizi come quelli di conservazione digitale o piattaforme per gli appalti o appunto il sistema di conservazione a tantissimi enti del nostro territorio. Qui li trovate elencati e come vedete la nostra infrastruttura è molto molto utilizzata. Abbiamo ad esempio nel caso del polo di conservazione 251 enti aderenti quindi oltre a tutti i comuni, tutte le agenzie regionali, enti del territorio e anche enti fuori regione. È molto importante perché il polo di GP è uno dei tre rimasti poli di conservazione pubblici che tra l'altro vogliamo valorizzare in sinergia delle attività che stiamo facendo nell'ambito del fondo complementare Sisma per ospitare dentro questo polo di conservazione anche tutti i documenti cartacei che vengono poi digitalizzati dei comuni che fanno parte del loro patrimonio edilizio. Il data center regionale ha tutta una serie di certificazioni ma è molto importante l'ultima attesa da tutti gli enti che hanno usato il polo per i progetti del PNRR, la 14.001 per il sistema di gestione ambientale che consente di assolvere al famigerato principio di HSN del PNRR. Quindi il progetto per poter essere poi asseverato e per poter essere erogati i fondi deve essere dichiarato questo principio. Quindi tutti i comuni che si sono avvalsi del polo strategico regionale hanno questa copertura. Eravamo stati qualificati come cloud service provider da Agit, adesso tutta la partita del rapporto rispetto ai servizi cloud è portata avanti dall'Agenzia per la Cyber Security nazionale che ha confermato il nostro posizionamento. L'ultimo punto, anche qui sarò breve, lancio solo un paio di concetti su cui si è già fermato l'assessore e l'obiettivo del bando che come abbiamo detto attualmente è finanziato per 8 milioni ma l'assessore ha comunicato che ci sarà questo ampliamento per arrivare a 8 milioni e mezzo di cui un milione erano riservati ai borghi ha come obiettivo quello di fornire dei servizi. Però noi nel fornire questi servizi vorremmo che in qualche modo sia valorizzato lo sviluppo dell'economia e dell'imprenditoria locale cercando di coinvolgere gli artigiani, i piccoli commercianti, le cantine, gli agriturismi, cioè tutti quelli che sono i soggetti economici del territorio, oltre anche il nostro tessuto manifatturiero. Quindi è molto importante che nella fase di attuazione del progetto, a breve adotteremo la gradatoria, vengono seguiti questi due concetti chiave, cioè l'aggregazione e il ricorso agli intermediari perché solo facendo sinergia tra i vari soggetti che concorrono a quelle tematiche, quindi associazione di categoria, privati, possiamo riuscire a fare effettivamente dei progetti che abbiano la sostenibilità nel tempo. L'altro concetto fondamentale di questo bando è che tutti i dati, poi i colleghi lo spiegheranno sicuramente diciamo in modo più dettagliato, vengono poi raccolti in un unico collettore di dati a livello regionale che è a disposizione di qualunque soggetto poi voglia fare economia a partire da quei dati, quindi verranno poi restituiti o in formato open data o tramite quella che sarà la vetrina digitale del borgo attuata a livello regionale. Qui trovate una carrellata di progetti del PNRR che il tempo è tiranno non possiamo trattare, però cito uno dei progetti che ritengo fondamentali e cui parleremo nelle prossime occasioni che è quello dell'accessibilità, quindi un grande intervento per rendere accessibili i nostri sistemi che è un'altra forma di colmare il divario, nel divario digitale nella sua diciamo accezione diciamo più importante per non escludere qualcuno perché proprio non potrebbe accedere ai servizi se non sono erogati in modalità accessibile e l'altra tutta la partita della cyber security, ne parleremo in incontri dedicati ma in notizia di questi giorni l'attacco a Microsoft dei suoi sistemi, l'attacco dei sistemi della posta elettronica di HP e due giorni fa l'attacco di tutti i sistemi ai Francia, ne potrei citare altri, ho citato questi gli ultimi tre giorni, quindi sicuramente è un tema in cui molto importante, abbiamo avuto finanziamenti cospicui, dobbiamo metterli anche questi, valorizzarli sul territorio. Abbiamo poi oltre questi che vedete sono tutti i progetti del PNRR che sono proprio nella nostra missione specifica 1-2, abbiamo poi tutta una serie di progetti che afferiscono al fondo complementare SISMA che riguardano i comuni del cratere, ne parleremo in riunioni dedicate e abbiamo poi tutta la partita della sanità digitale che è stata diciamo anche questa citata. Termino qui il mio intervento e grazie. Grazie. Grazie alla dirigente del settore transizione digitale, adesso si è concluso diciamo il primo tavolo dei relatori, giusto il tempo di riorganizzarci e di accogliere sul tavolo, Andrea Sergià come responsabile dell'agenzia trasformazione digitale delle marche, poi seguirà Letizia Conter, Luigi Cudia ed infine Mirco Sturari per il secondo tavolo quello più tecnico. Come avevano anticipato all'inizio dell'evento si terrà poi la tavola rotonda successiva a questa tavola dei relatori. Quindi diamo la parola per il focus sui progetti strategici FESR e PNRR per la transizione digitale ad Andrea Sergiacomi responsabile dell'agenda trasformazione digitale delle marche per parlare del progetto Bussola Digitale e iniziative per il borgo digitale diffuso che ci anticipava poc'anzi la dirigente Carota. Grazie. Buongiorno a tutti. Vorrei partire da questa slide, un po' complessa ma fondamentalmente rappresenta i quattro indicatori che misurano la digitalizzazione dei territori, si chiama Indice DESI, è un indice che usa l'Unione Europea per anche verificare gli stati membri a che punto sono con la loro digitalizzazione. Il Politecnico di Milano ha fatto un'ulteriore elaborazione e per l'Italia riesce invece a fornirci l'indice DESI delle singole regioni. Questa è una proiezione del 2022, le marche sono un po' sotto la media nazionale ma fondamentalmente lì, 53,8. Ve lo dico perché, non perché ci piaccia questo dato, ci piacerebbe essere nella parte sicuramente superiore, però perché le quattro fondamentalmente leve della digitalizzazione, quindi capitale umano, connettività, integrazione di tecnologie digitali e servizi pubblici digitali possono essere misurate ed è uno degli interventi che faremo nella programmazione del FESR 21 e 27, si chiama osservatorio digitalizzazione, dovremmo raccogliere i dati per riuscire a capire i nostri territori come performano dal punto di vista della digitalizzazione, secondo questi indicatori che poi a loro volta si proiettano in altri indicatori. Mancano ancora dei dati per riuscire a fare una elaborazione abbastanza dettagliata e quindi ci lavoreremo da qui ai prossimi anni di programmazione. Quello che invece vi vado a raccontare oggi sono due progetti che sono partiti, o meglio un progetto che è bussola digitale e un'altra costellazione di progetti che mette insieme più iniziative. Bussola digitale, abbiamo già detto quindi non mi dilungo a che serve, serve per portare alfabetizzazione digitale alle persone che hanno bisogno, quindi in primis i cittadini. Avevamo un target fissato dal Dipartimento di Transizione Digitale di 74 centri, siamo arrivati a 91, quindi immaginate anche che c'è stata molta adesione da parte del territorio per riuscire a mettere in piedi e a darci una sede, i comuni soprattutto, le università e altri soggetti, partecipano a questo progetto anche gli sportelli dei consumatori, quindi 19 di questi 91 punti sono sedi messe a disposizione dall'associazione dei consumatori. Un altro importante indicatore, target che dobbiamo raggiungere sono i famosi quasi 60.000 utenti, 59.000 per la precisione, univoci che devono essere assistiti o formati dai centri di facilitazione digitale. Inizialmente erano anche di un target di età in maggioreni da 18 a 74 anni, per fortuna esteso perché poi vediamo anche che chi si presenta ai nostri sportelli spesso ha molto più di 74 anni e sono persone che comunque hanno bisogno e diritto di ricevere l'assistenza necessaria. Il sito da cui partiamo ad erogare dei servizi online si chiama bussoladigitale.regione.marche.it da qui possiamo già un po' capire che cosa fanno i centri di facilitazione. Fondamentalmente due attività principali, l'assistenza individuale, quindi è possibile prendere un appuntamento con il presidio, recarsi all'appuntamento e ricevere un aiuto su qualsiasi cosa che riguardi il digitale. Quindi non stiamo parlando solo di servizi pubblici, parliamo anche di servizi privati, come si usano le videoconferenze, come si usano i sistemi di instant messaging, whatsapp, quindi non ci sono limiti. Come si usa il cellulare, quindi serve a 360 gradi a un cittadino per approcciarsi al mondo del digitale. È chiaro che solo con le facilitazioni individuali, matematicamente, da qui a fine 2025 non ci arriviamo a fare i 59.000 utenti. Quindi è partita a dicembre una azione invece più importante che ci sta dando dei grossi risultati di formazione. Sono partiti dei corsi di formazione distribuiti in tutti questi 91 centri e la cosa che ci fa ancora più piacere è che questi 91 centri stanno diventando sempre di più, quindi ci saranno anche dei centri temporanei in cui ci spostiamo. Sono 15 facilitatori regionali che presidiano tutto il territorio, ma ogni centro poi ne mette a disposizione anche di altri, quindi arriviamo in totale a circa 50 facilitatori su questo progetto. Fanno formazione a gruppi di persone, quindi comunque è una formazione in presenza interattiva e ci sta dando dei grossi risultati. Un'associazione di categoria con un fartigianato ci ha chiesto di poterla fare anche nelle sue sedi, quindi vuol dire che in realtà c'è interesse e siamo disponibili anche a ricevere i vostri contatti per poter poi fare questa formazione distribuita anche su tutto il territorio. Oltre a questo c'è chiaramente tutta la parte di offerta in e-learning, quindi anche di formazione a distanza. È chiaro che chi ha difficoltà con il digitale non va a cercare l'e-learning, però c'è anche tutta questa possibilità. Una cosa importante è il target, cioè siamo partiti dai cittadini, quindi i primi corsi sono riferiti al cittadino e sono corsi base, quindi come si usa l'email, come si usano i social, è già partita la fase di corsi un po' più avanzati, che quindi spiega anche qualcosa di un po' più complesso, complesso tra virgolette per noi informatici ma per altri lo è, la firma digitale, la PEC, l'INAD, il registro del domicilio in cui si può ricevere la comunicazione anzi che tramite raccomandata, siccome i facilitatori digitali sono incardinati nei comuni o nelle università, di fatto anche i dipendenti stessi dei comuni riescono ad ottenere un servizio dai facilitatori stessi, quindi partiranno anche dei corsi di formazione per gli enti locali, partiranno dei corsi di formazione, anzi sono già partiti per gli studenti universitari, qualcuno penserebbe che gli studenti universitari non hanno bisogno, sono tutti nativi digitali, vi garantisco che non sanno pagare con pago PA le tasse universitarie, non dico tutti, qualcuno, quindi serve anche a loro in realtà questo tipo di formazione. Ultima cosa, sono corsi per alunni dell'ultimo anno delle scuole superiori, che sono partiti perché per raggiungere i nostri numeri abbiamo bisogno di un'altra mano da parte dei facilitatori e quindi in realtà attraverso questi corsi non solo formiamo i diciottenni che fanno scuole superiori sul digitale, ma reclutiamo anche nuovi facilitatori, in questo modo quello che poi fanno normalmente, cioè aiutano le famiglie, i nonni, i genitori magari a utilizzare le tecnologie e i servizi, lo fanno però in maniera un po' più professionale partecipando anche a un concorso. Dovremmo raggiungere i famosi 59.000, siamo a 6.000 utenti serviti maggiorenni unici a fine febbraio. Non vi rubo altro tempo su questo progetto, vi dico solo questo, come diceva anche l'assessore ci piacerebbe che questo progetto duri oltre il PNRR, quindi oltre il 2025 e una delle idee che ci è venuta e che abbiamo proposto anche alle altre regioni è di far diventare questa rete dei facilitatori digitali, anche una rete a supporto degli RTD, gli RTD in gergo che chi non conosce il gergo sono i responsabili di transizione digitale, ogni comune ha questa figura che serve per migliorare l'offerta dei servizi della pubblica amministrazione, spesso è una rete che ha bisogno di ulteriore supporto e quindi potrebbero essere i facilitatori digitali che si mettono anche il cappello di supporto per gli RTD. Passiamo invece all'altro progetto, partiamo dal bando, l'abbiamo già citato, il bando servizi digitali integrati, anzi prima ancora diciamo che è un'iniziativa che rientra nel FESR e quindi nella programmazione 21 e 27 in cui nell'azione 122 abbiamo alcuni fondi a titolarità regionale con cui faremo dei progetti tramite appalti regionali e altri fondi invece che abbiamo messo a bando in questo famoso bando servizi digitali integrati. Perché ve lo cito? Perché in realtà è un'azione coordinata, il bando non è fino a se stesso e le 190 domande, chiaramente finita l'istruttoria, quelle che risulteranno ammissibili e in gradatoria verranno finanziate tutte grazie a questo incremento che c'è stato di dotazione finanziaria che cosa abbiamo ottenuto, cosa vogliamo ottenere da questo bando, da queste 190 proposte progettuali? Il bando si rivolgeva fondamentalmente a dei progetti dei comuni che avevano due ambiti di riferimento un ambito obbligatorio, il più importante per noi, quello della promozione e valorizzazione economica dei territori e ci arriveranno fondamentalmente alla conclusione di questi progetti una serie di dati contenuti che metteremo a frutto in un sistema che noi chiamiamo digital hub market. Sono contenuti appunto per la promozione e valorizzazione del territorio e suddivisi se volete in contenuti a fruizione autonoma, quindi itinerari, punti di interesse dove il turista, il visitatore ma anche il cittadino stesso di un borgo viene a conoscere che esistono delle eccellenze attenzione perché non sono solo eccellenze fisiche, non sono solo itinerari fisici, il monumento, la piazza, il monte sono anche persone, sono anche operatori economici, quindi la valorizzazione è anche far conoscere quelle che sono le eccellenze dell'artigianato, chi commercia e vende prodotti tipici. Lo vediamo in questa slide successiva, poi ve lo dico l'altro aspetto di questo bando erano invece smart cities e semplificazione amministrativa, i comuni potevano anche sviluppare e realizzare dei servizi di semplificazione del contatto con l'utente piuttosto che tecnologie per le città intelligenti, internet delle cose eccetera eccetera. Quello che ci è arrivato in termini di numeri di persone, operatori economici da coinvolgere ci tranquillizza perché da tutti questi progetti avremo 376 artigiani creativi, 896 commercianti di prodotti tipici o in generale di prodotti, oltre 2000 attività di accoglienza e ricettività e sono proprio operatori economici coinvolti nel progetto che verranno raccolti in questo sistema che si chiama Digital Hub Marche eccetera eccetera 2000 ristoratori eccetera eccetera. Allora qual è la parte seconda di questo progetto? Una volta che abbiamo i dati cosa ci facciamo? Parte quello che chiamiamo in gergo sempre, noi informatici ci piacciono gli acronimi, SERBOR, i servizi del borgo per dirla in maniera più simpatica, il borgo digitale diffuso. Quindi i servizi, i contenuti, gli operatori economici raccolti diventano i soggetti, gli attori che animano questo borgo digitale diffuso. Questo borgo digitale diffuso avrà una vetrina la vedete sulla parte destra, la vetrina del borgo digitale diffuso, quello in mezzo è il famoso Digital Hub Marche cioè un sistema che raccoglie i dati e rende i flussi interoperabili, ma parte tutto dal comune in primis, dal soggetto che ci fornisce i dati attraverso un sistema che chiamiamo smart data, o in interoperabilità, quindi collegando i loro sistemi con il nostro sistema o anche semplicemente avendo a disposizione delle forme con cui riversare e aggiornare i dati. Non ci sono solo i comuni e questo sistema di raccolta poi chiaramente deve anche far vedere questi contenuti in dei front end, cioè dei sistemi che poi si rivolgono al pubblico. Il principale, se vogliamo, che viene servito dal Digital Hub Marche è anche il sito Italia.it, quindi il beneficio che ci si ricava è anche quello di riuscire a promuoversi su un canale nazionale, ma poi sui canali regionali. Il sito del turismo Let's Marche, questa famosa vetrina nel borgo digitale diffuso, altre iniziative regionali che sono partite, che sono Mark & Wine e quindi tutto il flusso del turismo enogastronomico e del vino. Altri soggetti coinvolti sono gli stessi soggetti privati, quindi immaginate per il vino le cantine, gli operatori che fanno enoturismo. Cosa significa questo? Faccio un esempio sul territorio in cui siamo, quindi Senigallia che ha delle bellissime spiagge, che ne so, andiamo nell'entroterra, andiamo a Fabriano che c'ha i monti, Sassoferrato e dei borghi in mezzo con Rinaldo, Arcevia, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa si potrebbe fare con tutto questo patrimonio di dati? Organizzare un sistema in cui un turista o anche semplicemente una persona che vuole stare in tranquillità e lavorare magari in smart working trova una serie di soluzioni attraverso tutti questi sistemi e li trova non in maniera frammentata e disgregata per ogni singolo fornitore di servizi. Quindi vedete che potremmo riuscire a mettere in comunicazione il turista con tutti gli operatori economici, ristoratori, albergatori, guide turistiche, piuttosto che anche artigiani che potrebbero prenotare delle visite al turista e fargli vedere il laboratorio. Finisco così, do la parola a Letizia Conter che invece ci fa vedere un esempio di un itinerario. Lei ci ha aiutato durante la fase del bando servizi digitali integrati per aiutare i comuni nella progettazione e quindi lascio la parola a lei e ci racconta qualcosa. Parola quindi a Letizia Conter che è esperta del PNRR a livello nazionale. Grazie. Grazie, chiederei di proiettare il piccolo portale che è stato realizzato e sarò molto breve. sostanzialmente noi abbiamo seguito i comuni nella preparazione del bando cercando in qualche modo di ispirarli con degli esempi concreti nell'interpretazione di quella che è la finalità del bando, cioè quella di creare una sinergia importante non solo tra chi conosce il territorio, cioè il comune, ma soprattutto tra i vari operatori economici che sono dislocati sul territorio e di cui il comune dovrebbe essere il massimo conoscitore assieme al territorio stesso. Quindi noi abbiamo impostato sostanzialmente degli itinerari tipo che abbiamo calato su alcune zone caratteristiche delle marche, perché le marche sono dotate di mare, di una bellissima costa, di collina, di montagna, quindi abbiamo cercato di pensare e interpretare appunto come un comune potesse immaginare un itinerario. Oggi ne presentiamo uno calato su questa bellissima cornice di Senigallia e abbiamo voluto incentrare la nostra attenzione proprio sulla concretezza di quello che un comune potrebbe realizzare nella presentazione del suo territorio. Quindi immaginiamo tutto ciò che di bello può esistere sul territorio, in questo caso sul comune di Senigallia, e abbiamo supposto una serie di itinerari, o meglio in questo caso un itinerario, quindi un insieme di tappe che vanno a percorrere tutto ciò che un turista, un fruitore, può visionare sul territorio. La cosa importante che però vogliamo sottolineare non è soltanto il discorso della valorizzazione del territorio che c'è e che deve essere conosciuto, ma di fondamentale importanza è l'occasione che esiste per gli operatori economici, quindi i piccoli imprenditori, gli artigiani, di collocarsi all'interno di questo territorio e diventare parte attiva nel percorrere questi itinerari smart, che sono itinerari che in qualche modo vanno al di là della concezione classica di turismo, perché li concepiamo anche in ambito digitale. Vediamo per esempio che all'interno di una passeggiata, che abbiamo supposto di una giornata, possiamo soffermarci su attività locali che possono essere per esempio i produttori di cornici, piuttosto che i panifici, il pangallo di Senigallia può essere valorizzato in questo percorso, quindi il piccolo panificio locale, ma anche la cantina che si trova lungo una camminata che può essere svolta in centro, è assolutamente un'occasione molto importante per gli operatori economici di farsi valorizzare e di rendersi attori fondamentali nella promozione del territorio. Quindi noi abbiamo cercato sostanzialmente di dare degli spunti ai comuni perché poi tutti questi punti di interesse che diventano quindi delle parti digitali e digitalizzate del nostro territorio vanno ad alimentare il DHM, quindi il portale della regione Marche che si promuove a vetrina del turismo, quindi vediamo che ogni comune non è una monade che lavora nel proprio territorio e entro i propri confini, ma in un'ottica più generalizzata e più generale, grazie alla vetrina che viene proposta da regione Marche, ecco che le Marche diventano un territorio unico ciascuno poi con le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità che viene offerto e conosciuto e appunto grazie la digitalizzazione può essere in qualche modo, si può fornire un'occasione di crescita per tutti, per il territorio, per gli operatori economici, per gli artigiani e così via. Quindi ci riallacciamo in un concetto fondamentale dell'importanza della digitalizzazione anche all'interno del turismo, all'interno della conoscenza del nostro territorio, quindi io non ruberei altro tempo, rimaniamo chiaramente sempre a disposizione per chiarimenti, ma lascerei a chi segue proseguire il discorso. Grazie mille. Grazie a lei, grazie a lei Letizia. Parliamo quindi dell'avanzamento dei lavori della banda ultralarga con Luigi Cudia, responsabile infrastrutture e operations di Infratel Italia. Grazie, buongiorno a tutti. Chiedo di avviare la presentazione. Eccoci. Allora, nella mia presentazione vi racconterò un po' lo stato dell'arte del progetto Bull nella regione Marche. In realtà alcuni numeri sono già stati anticipati dai che mi ha preceduto, quindi magari su questa parte andrò forse un po' più veloce, però magari preferisco soffermarmi su alcuni aspetti che magari non tutti conoscono, che non sono chiari a tutti, che possono permettere di spiegare un po' meglio come è nato il progetto, come si sta implementando, quali sono le potenzialità e quali sono i risultati, ma anche le criticità che oggi ancora le sussistono. Allora, innanzitutto volevo chiarire un punto, abbiamo approfittato prima, il presidente Confindustria Ancona parlava di un progetto che era nato nel 2016 con degli obiettivi poco sfidanti, nel senso che si parlava di una banda richiesta dal progetto superiore a 30 megabit. Non è proprio così, nel senso che il progetto è vero che è partito nel 2016 quando gli obiettivi della comunità europea erano ancora quelli dell'agenda 2020 e l'agenda 2020 prevedeva di arrivare nel 2020 con una banda per tutti a 100 megabit, con una banda all'85% della popolazione a 100 megabit e il resto a 30 megabit. Quindi il progetto in realtà nasce con quell'obiettivo di soddisfare l'agenda 2020, quindi richiedeva per buona parte dei territori messi a bande di gara una rete in grado di fornire servizi a più di 100 megabit e lasciava la possibilità di fornire servizi a velocità maggiore di 30 megabit soltanto per alcune aree residuali del territorio nazionale che erano le cosiddette case sparse. Quindi al di là delle case sparse dove effettivamente la rete richiesta era a 30 megabit e in tutto il resto del territorio nazionale si chiedeva una rete almeno a 100 megabit. La rete che è stata poi implementata e che era stata offerta a gara poi è una rete in realtà in fibra ottica che soddisfa questo requisito. La rete in fibra ottica non ha un limite a 100 megabit, quindi in realtà la rete che è stata messa in campo, che è una rete in fibra che arriva fino alle abitazioni, è in grado di fornire 100 megabit ma è in grado di fornire 1 gigabit, è in grado di fornire 10 gigabit, è in grado di fornire 100 gigabit. La rete in fibra ottica non ha un limite, l'unico limite che è dato alla rete in fibra ottica è legato agli apparati che si mettono a monte e a valle della fibra. Quindi l'infrastruttura che è stata realizzata è un'infrastruttura comunque a prova di futuro, è un'infrastruttura in grado di sostenere qualsiasi necessità di banda ci sia da qui ai prossimi 50 anni. Quindi da questo punto di vista vorrei rassicurare che non saranno necessari ulteriori interventi e ulteriori attività in campo dopo tutto il lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni. Come è fatta la rete oggetto del piano Bull? C'è una rete che è quella rossa, la rete pubblica, è una rete che parte da un punto di consegna neutro che sta all'interno di un comune, da qui parte una cosiddetta rete primaria che arriva a un punto di smistamento nel comune o in altri comuni che si chiama giunto comunale e da qui poi parte la cosiddetta rete secondaria che arriva fino alle abitazioni. Quando dico arriva fino alle abitazioni non vuol dire fino a dentro le abitazioni ma vuol dire fino al suolo pubblico, quindi fino all'esterno delle abitazioni, con una distanza massima di 40 metri. Quindi questa rete prevede un punto fibra che sta al massimo a 40 metri alle abitazioni. Quando il cittadino chiede il rilegamento e l'attivazione del servizio sarà cura di Open Fiber che è il concessionario di questa rete pubblica, perché questa è una rete che rimane di proprietà pubblica, sarà cura di Open Fiber fare il collegamento degli ultimi 40 metri e portare la fibra dal suolo pubblico all'interno della casa del cittadino, dell'impresa o dell'azienda che chiede la connettività. Quindi è una rete che di fatto è una rete FTTH completa in fibra fino a casa utente, l'ultimo pezzettino viene realizzato su richiesta e non a tappeto che sarebbe stata un'attività difficilmente gestibile. A complementare questa rete in fibra poi c'è una rete radio, una rete cosiddetta FWA, Fixed Wireless Access, che come vi dicevo è quella rete destinata alle case sparse e che permette di dare anche alle abitazioni e alle unità immobiliare case sparse un servizio minimo di 30 megabit. In realtà non so chi l'ha richiesto ma se vedete i listini dell'offerta dei servizi di Open Fiber in realtà sull'FWA esiste anche un profilo a 100 megabit perché la tecnologia comunque è in grado di offrire capacità anche a 100 megabit. Una parte importante che poi richiamerò dopo, a monte del punto di consegna neutro, quindi verso la rete nazionale, verso i grandi punti di concentrazione di fornitura dei servizi di internet nazionali, esiste la rete di trasporto. La rete di trasporto non era oggetto del bando. Perché non era oggetto del bando? Perché quando fu fatto il bando del 2016 non c'era fallimento di mercato sulla rete di trasporto, quindi non essendoci fallimento di mercato non era possibile attivare un aiuto di Stato verso la comunità europea che permettesse di fare investimenti pubblici su questa porzione di rete proprio perché non c'era un fallimento di mercato. Fallimento di mercato che invece c'era sulla componente d'accesso, quindi su quello che c'era all'interno dei comuni, quindi tra il nodo del comune, il PCN e le abitazioni e lì si è concentrato il piano Bull e si è concentrato l'aiuto di Stato ai finanziamenti europei che abbiamo potuto utilizzare all'interno del piano Bull. Vado veloce, qui dal PCN l'architettore di rete prevede dei punti intermedi che si chiamano CNO, un CNO copre 256 unità immobiliari, quindi è un armadio stradale che trovate per strada e che raccoglie 256 fibre che poi vanno a casa degli utenti. L'ultimo dal CNO in poi poi c'è un altro pezzo di rete che arriva a dei cosiddetti ROE, i ROE sono quei punti di terminazione fibre che vi dicevo all'esterno delle abitazioni in suolo pubblico che stanno al massimo a 40 metri delle abitazioni e che al massimo hanno una capacità di 48 unità immobiliari, quindi per strada nei vostri comuni troverete questi armadietti stradali CNO che ospitano 256 fibre e questi aggeggetti più piccolini che stanno o dentro i crozzetti o nelle facciate delle case che sono i ROE e che hanno una capacità che va dai 12 alle 48 fibre ottiche. Qual è il piano del Bull nella regione Marche? Questo è il piano complessivo che comprende 235 comuni di cui 218 hanno un intervento FTTH, quindi fibra e FWA, quindi radio, di 17 hanno solo un intervento di tipo FWA, di tipo wireless. Vedete qui come sono un po' suddivisi sulla base dei fondi che lo finanziano, il progetto è un progetto complesso, ci sono almeno 9 fondi diversi che finanziano il progetto su tutto il territorio nazionale, ogni fondo ha delle meccanismi di applicazione diversi, ha dei meccanismi di rendicontazione diversi, ha dei tempi di rendicontazione diversi, quindi è un progetto molto complicato, complessivamente comunque i vari fondi che intervengono sulla regione Marche coprono i 235 comuni per un numero di unità immobiliari complessive di 422 mila, di cui 333 over 100, quindi in fibra e 88 mila wireless in FWA. Lo stato del progetto, adesso vi racconto lo stato del progetto ma qualcosa è stato già anticipato, la progettazione praticamente della parte fibra è finita, abbiamo tutti i comuni progettati e tutti i comuni avviati, sulla parte radio invece ci sono ancora 78 siti che vanno ancora progettati, viceversa ne sono stati già realizzati in corso di realizzazione 137, quindi sulla parte wireless ancora abbiamo un po' del lavoro da fare. Dal punto di vista della realizzazione dei 218 comuni in fibra abbiamo solo 18 cantieri in corso, 199 sono già stati completati, se fate 199 più 18 fa 217 perché in realtà c'è un comune in cui c'era previsto un intervento a piano che però ha deciso di non voler concedere le autorizzazioni per fare i lavori perché evidentemente si considerano già abbondantemente soddisfatti a punto di vista della banda ultralaga, probabilmente hanno infrastrutture di altri operatori, quindi i comuni sono rimasti 217, 199 finiti, 18 con cantieri in corso, dei 199 finiti ce ne abbiamo già collaudati 157 e altri 52 sono in corso di collaudo, quindi lo stato di avanzamento del progetto è abbastanza, è quasi finito, di fatto vedete ci sono solo 18 comuni in cui abbiamo i lavori in corso, quindi ormai siamo addirittura d'arrivo, la parte radio è leggermente più indietro, sulla parte radio i 137 siti sono praticamente tutti completati, ce ne sono solo 10 in lavorazione, però come vi dicevamo prima ce ne sono almeno una settantina che devono essere ancora progettati. Dal punto di vista dell'impegno, quindi dell'investimento che è stato fatto sul territorio, sono stati spesi una discreta cifra, abbiamo fatto ordini per più di 130 milioni di euro, quindi sono stati immessi sul territorio 130 milioni di euro di finanziamenti e oggi siamo arrivati a un valore di sale, quindi di avanzamento dei lavori certificati dei direttori lavori di circa 78 milioni. Quindi comunque è un'importante risorsa economica che è stata innestata sul territorio. Uno sguardo sull'attivazione dei servizi, che succede quando un comune è finito? Quando un comune è finito OpenFive tipicamente apre il servizio, apre il servizio e lo apre in due modalità diverse, esiste la cosiddetta vendibilità passiva e la cosiddetta vendibilità attiva, che vuol dire? Allora ricordate come vi dicevo prima che l'oggetto del piano bull è la rete d'accesso, non è la rete di trasporto, la rete di backhauling. Quindi i servizi che hanno stati richiesti come obbligatori a OpenFive sono servizi di fornitura di connettività nella rete di accesso. La rete di accesso significa dal PCN, che c'è uno per comune, alle abitazioni. Quindi quello che OpenFive era obbligata ed è obbligata a vendere e accedere agli altri operatori dal bando sono tutti questi servizi di accesso. Quindi che vuol dire? Che se un operatore va al PCN di OpenFive può accedere da quel PCN a tutte le fibre che arrivano in tutte le abitazioni del territorio e può accedere anche alle unità immobiliari che sono collegate attraverso l'antenna FWAR, attraverso il sistema wireless. Questo però presuppone che un operatore deve arrivare con i suoi apparati e con il suo backbone, quindi quello che lo collega poi alla rete nazionale all'interno del PCN di OpenFive. OpenFive dà anche un'altra tipologia di servizio, questa volta però con un investimento privato, cioè ha realizzato in alcuni casi un suo backbone, quindi permette all'operatore di non andare a installare i suoi apparati all'interno del PCN, ma dice all'operatore guarda se vuoi il traffico te lo raccolgo io e te lo porto dove tu mi chiedi. Quindi l'operatore che ha una sua centrale ad Ancona può aprire il servizio a un utente di Senigallia senza dover mettere apparati nel PCN di Senigallia, semplicemente utilizzando un servizio attivo di OpenFive che va da Senigallia ad Ancona e che utilizza una rete pubblica all'interno del comune Senigallia e una rete privata di OpenFive tra Senigallia e Ancona. Questi servizi di vendibilità attiva purtroppo non sono disponibili in tutti i comuni che sono già stati completati, perché è un investimento privato come vi dicevo, quindi OpenFive ha un suo piano di realizzazione, ha un suo piano di copertura del backcalling, del backbone e quindi man mano che realizza questo backcalling attiva i servizi attivi. Viceversa i servizi passivi che sono obbligatori da bando devono essere attivati e sono attivati e ogni volta un comune viene completato. Quindi quando i 199 comuni completati hanno tutti i servizi passivi disponibili, alcuni di questi hanno anche servizi attivi. Cosa succede? Ed è il motivo per cui purtroppo i numeri delle attivazioni spesso non sono particolarmente lusinghiere. Succede che gli operatori non vogliono portare un loro backbone dentro il PCN di OpenFive, non vogliono installare i loro apparati dentro OpenFive e quindi semplicemente aspettano la vendibilità attiva nella maggior parte dei casi. In molti casi qualcuno invece che fa un investimento per arrivare all'interno del PCN di OpenFive e riesce a collocarsi all'interno del PCN di OpenFive può vendere anche servizi passivi. La situazione oggi è questa, la situazione è che noi abbiamo 179 comuni in cui i servizi FTTH sono attivabili, che sono una parte dei 199 finiti, ce ne sono una ventina che sono finiti e che passeranno in attivazione dei servizi a breve, con 237 mila unità immobiliari che possono già soffrire dei servizi a bando ultralarga, passivi. Di questi 179, poi 152 hanno anche la vendibilità attiva, quindi su 152 comuni sono disponibili anche i servizi di vendibilità attiva di OpenFive e quindi in questi comuni gli operatori non hanno la necessità di doversi collocare all'interno dei PCN di OpenFive. Viceversa nei 27 che rimangono per poter fornire servizi gli altri operatori dovrebbero arrivare nei PCN di OpenFive e spesso purtroppo devo dire che questo non avviene, del motivo per cui a volte questi servizi, in alcuni comuni i servizi non si riescono a vendere. Sulla parte FVA i numeri sono simili, abbiamo 127 comuni attivi con 62 unità immobiliari FVA vendibili, di queste 127 anche qui vedete 111 sono in vendibilità attiva, quindi ce ne sono soltanto 16 in vendibilità passiva. Detto questo bisogna però sottolineare purtroppo, e su questo magari la rete dei faciliti digitali ma tutte le iniziative di cui abbiamo parlato oggi può essere sicuramente molto utile, dobbiamo notare che a fronte quindi di circa 300.000 unità immobiliari disponibili al servizio oggi sono stati richiesti attivazioni solo per 19.000 e questo ovviamente è un problema, un problema perché abbiamo fatto un investimento enorme dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dell'impatto sui territori. Sapete benissimo che cosa ha significato realizzare questa rete nei 199 comuni marchigiani, significato scavi, significato disagi, significato problemi con la cittadinanza, significato tante difficoltà che sono dovute essere gestite ed è veramente un peccato adesso che questi lavori finalmente sono fatti che non si possano mettere a disposizione di tutti i cittadini dei comuni. Qui probabilmente è necessaria un'operazione di comunicazione, un'operazione di informazione, dobbiamo informare e spiegare ai cittadini che questi servizi esistono sono disponibili e possono essere richiesti. Su questo ci deve essere una compartecipazione di iniziative da parte di tutti, da parte ovviamente nostra a livello centrale, da parte della regione ma soprattutto direi da parte dei sindaci. Qui il contributo, l'aiuto dei sindaci è fondamentale perché nelle realtà piccole dove interveniamo noi con le aree a fallimento di mercato sapete benissimo che il ruolo dell'istituzione è un ruolo di riferimento principale e importante per la cittadinanza. Quindi la divulgazione, le informazioni, i punti di facilitazione digitale tutte queste iniziative possono sicuramente aiutarci a far crescere questo numero, a farlo diventare vicino all'offerta che è quello che sarebbe l'auspicio ovviamente di tutti. Per darvi un'idea di quando pensiamo di completare tutto, la parte in fibra è prevista di completarla ovviamente entro l'anno, avete visto ci sono solo 18 comuni che dobbiamo completare quindi sicuramente entro la fine dell'anno sarà completata tutta la parte in fibra, la parte wireless è obiettivamente un po' più indietro e prevediamo di completarla più o meno nella metà del prossimo anno. Vi ringrazio, poi ci sarà una sessione immagino per eventualmente domande o chiarimenti. Grazie a tutti. Grazie a Luigi Cudia, passiamo quindi la parola per un focus sull'avanzamento dei piani PNRR al funzionario del settore transizione digitale ed informatica della regione Marche, il dottor Mirko Sturari. Prego. Grazie. Allora ringrazio subito l'ingegner Cudia che ha sicuramente dato un quadro completo dell'avanzamento per quanto riguarda il piano Bull, il piano Bull che insieme anche agli interventi precedenti del piano banda ultralarga e banda larga vanno a costituire una base infrastrutturale importante su cui poi si vanno a innestare gli ulteriori interventi previsti nelle misure PNRR, misure infrastrutturali che riguardano piano Italia 1 giga e piano Italia 5G, quindi abbiamo in questo caso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, quelle già realizzate nei territori a fallimento di mercato e quindi le infrastrutture sia pubbliche che private. oltre agli interventi di tipo infrastrutturale ci sono anche i servizi di connettività in due bandi principali, il piano scuola connessa e il piano sanità connessa, in questo caso anche qui si va a valorizzare quanto è stato realizzato negli interventi precedenti e si vanno a collegare quindi le strutture sanitarie e le sedi scolastiche cercando di utilizzare laddove è possibile le infrastrutture esistenti sia pubbliche che private che in concessione ad Open Fiber. Adesso andiamo a vedere piano per piano qual è lo stato di avanzamento, questi piani per quanto riguarda la regione Marche coinvolgono per l'Italia 1 giga 122.000 civici, per il backhauling 5G 211 siti, per la densificazione 49, poi vediamo qual è la differenza tra le due, sanità connessa parliamo di 468 strutture sanitarie e per la scuola connessa 219 sedi scolastiche. Per quanto riguarda il piano 5G si va a intervenire in tutte le aree nei quali il piano Bull non è riuscito a intervenire, dove entro il 2026 non è prevista una velocità di connettività di almeno 300 Mbps, quindi questo dovrebbe cercare di coprire tutto quanto è rimasto non coperto dal precedente intervento, sempre laddove non è prevista la copertura di un operatore privato. Qui vediamo lo stato di avanzamento attuale del piano Italia 1 giga e siamo al 15.000 circa civici connessi dei 122.000 previsti. Per quanto riguarda il piano Italia 5G abbiamo due tipi di interventi, in questo caso abbiamo un intervento di backhauling in cui si vanno a rilegare in fibra dei siti radiomobili esistenti, è un intervento di densificazione in cui si realizzano nuovi siti radiomobili. Anche qui abbiamo dei 211 siti radiomobili esistenti, ne abbiamo già rilegati 85 e 18 sono in lavorazione. Per quanto riguarda invece la densificazione, quindi la realizzazione di nuovi siti, abbiamo dei 49 previsti a bando 1 realizzato e attivato e 8 in lavorazione. Per quanto riguarda il piano scuola connessa è una delle 219, non sono ovviamente tutte le sedi scolastiche della regione Marche, questo piano è un completamento del piano scuole connesse previsto invece nella strategia Bull e quindi diciamo questo è un completamento e questo piano scuole connesse misura PNRR è un fase 2, quindi va a completare offrendo i servizi con attività gratuita, quindi in questo caso c'è la connessione e il pagamento dei servizi per 6 anni dall'attivazione alle scuole. In questo caso siamo delle 219 scuole connesse a 39 attivate a gennaio 2024, quindi siamo verso il 18%. Se andiamo a mettere insieme il dato della scuola connessa a fase 1 e piano scuola connessa a fase 2 abbiamo un totale di 1340 scuole di cui 638 attivate, quindi siamo vicini al 50%. In questo caso faccio una piccola parentesi, dovendo utilizzare le infrastrutture resistenti pubbliche e private concessione Open Fiber, oltre agli eventuali rilegamenti fatti all'interno del piano Italia 1 giga, ci troviamo a dei piani che si vanno a innestare e a sovrapporre al termine della realizzazione di altri piani, quindi in alcuni casi alcune sedi vengono ritardate per cercare di sincronizzare l'intervento con l'attivazione dei servizi e della rete da parte di Open Fiber o lato Italia 1 giga. Qui abbiamo un quadro suddiviso per provincia, in cui vediamo alcune province in cui i comuni chiusi, Open Fiber e gli altri interventi sono in stato più avanzato, di conseguenza anche l'attivazione delle scuole è in uno stato più avanzato. In altre province vediamo che c'è un leve ritardo sugli altri piani e di conseguenza anche sull'attivazione delle scuole abbiamo un leggero ritardo. Vedete sotto riportato sempre le fonti di riferimento, abbiamo il portale Banda Oltralarga, punti tale per quanto riguarda i dati scuola connessa fase 1 e connetti Italia per quanto riguarda il piano scuole connesse fase 1. Per quanto riguarda invece il piano sanità connessa questo è ancora più importante come piano perché prevede i servizi di connettività a 1 gigabit e fino a 10 gigabit per le strutture principali, delle strutture che fanno parte del servizio sanitario pubblico. Quindi qui ci sarà il pagamento dei servizi per 9 anni e in questo caso si parla di realizzare delle reti che interconnettono le sedi delle strutture sanitarie, quindi c'è anche un importante fattore di progettazione reti e interconnessione, quindi in questo caso come vediamo abbiamo molte strutture già in lavorazione ma l'attivazione è un po' più in ritardo perché è una complessità di gestione dei piani di migrazione che devono cercare di ovviamente portare l'attivazione il prima possibile ma senza portare a disservizi in servizi importanti come possono essere i servizi sanitari. Chiudo riportando l'azione che intendiamo portare avanti di monitoraggio delle aree che ancora non sono infrastrutturate, abbiamo detto che il piano Bull è andato a coprire la maggior parte delle aree bianche non coperte, il piano Italia 1 giga ha cercato di chiudere le zone non coperte, abbiamo rilevato che ci sono ancora delle aree che non è ben chiaro se operatori andranno a coprirle nel breve termine e quindi vogliamo cercare di attenzionare queste aree con la collaborazione anche di Infratel per cercare di trovare delle azioni che possono essere messe in campo e andare a coprire anche queste aree residue cercando di sostanzialmente arrivare a quella copertura totale del territorio e a eliminare questo digital divide citato più volte durante gli interventi. Oltre a questi piani di realizzazione di infrastrutture ci sono anche delle azioni a livello nazionale per incentivare la domanda, azioni che si sono chiuse negli anni passati, il 2023 con i voucher sia per le famiglie che per l'infrese e ci sono in corso delle consultazioni per riproporre dei nuovi voucher nei prossimi periodi sia per le famiglie che per le imprese che possono incentivare quella domanda per arrivare a avvicinarsi a sfruttare tutta questa rete che va a coprire tutti questi civici e avvicinare al totale dei civici che abbiamo a disposizione sfruttando gli investimenti fatti. Grazie a tutti, chiudo qua. Grazie a Mirko Sturari per aver chiuso quindi il secondo tavolo. Chiedo gentilmente di raggiungerci. Possiamo iniziare la nostra tavola rotonda e a seguire il dibattito. Vi anticipo subito che nella tavola rotonda sono previsti al momento sei interventi. Iniziamo con Luigi Cudia che già abbiamo ascoltato e invito a raggiungerci Andrea Polini dell'Unicam. Grazie. Allora, Luigi Cudia, quali sono i cambiamenti concreti e gli effetti osservabili sui territori per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche quando fa ingresso la banda ultralarga? Ecco, in che modo la banda ultralarga può diventare un vero e proprio traino per l'economia? Grazie. Allora, questo è un argomento che credo sia stato proprio l'oggetto della giornata di oggi alla fine perché è stato proprio concentrato sulle opportunità della banda ultralarga. Beh, è chiaro, la banda ultralarga ormai è, come è stato detto da vari soggetti, ormai è imprescindibile. Cioè non se ne può fare a meno. Non se ne può fare a meno né per l'attività del cittadino, per la sua sfera privata né per la sua sfera di interazione con il mondo pubblico. È la stessa cosa fare per le aziende. Cioè, ma ovviamente è inutile farci un esempio per quello che riguarda la vita privata del cittadino. Sapete benissimo che ogni volta volete usufruire di un servizio, ormai la prima cosa che si fa è si piglia il cellulare, se accende il pc e si va a vedere come posso prendere un aereo per andare da qualche parte, se devo legarmi in una località qual è l'itinerario per arrivarci. Cioè, ormai la vita di tutti i giorni dei cittadini è impregnata di connettività digitale, quindi è qualcosa di cui non si può più fare a meno. Questo ovviamente permette di migliorare la vita di ognuno di noi, perché ci permette di accedere a una marea di informazioni e tanti servizi, che soprattutto chi abita nelle località più piccole, nelle locali remote, tipicamente non trova sotto casa. E quindi a maggior ragione per chi sta nelle aree a fallimento di mercato, è fondamentale avere un'ottima connettività, perché spesso è l'unico modo per usufruire di servizi che altrimenti difficilmente riuscirebbe ad avere. La stessa cosa avviene quando ti devi interfacciare con il mondo pubblico. Ormai, vedete, tutti i servizi della pubblica amministrazione necessitano di speed, necessitano di connettività, necessitano di accedere a piattaforme nazionali. Quindi pensiamo a tutte le innovazioni degli ultimi anni, il 7.30 precompilato, cioè tutto quello che oggi sono i servizi che utilizziamo, nella maggior parte dei casi noi, senza renderci conto che se non avessimo avuto la connettività a banda ultralarga, probabilmente tutti quei servizi non li avremmo mai avuti. Quindi è evidente come non se ne possa più fare a meno. Per le aziende è ancora più importante, le aziende a banda ultralarga, la connettività, ti permette di essere innanzitutto aperti al mondo, e quindi superare quella dimensione provinciale, quella piccola dimensione che spesso le piccole e medie imprese nel territorio nazionale hanno, perché proprio per una difficoltà di logistica a volte è difficile essere in contatto con il resto del mondo. L'opportunità ce la dà appunto la connettività, la connettività ci permette di avere vetrine digitali, ci permette di accedere a fornitori e a servizi che stanno in giro per il mondo, quindi avere anche un'economia di scala, avere un'economia di produzione nei cicli produttivi. E questo è verso l'esterno, ma ancora di più forse è importante verso l'interno, cioè il potere fruire di servizi cloud, di servizi rimotizzati, e soprattutto di piattaforme digitali che ottimizzino i cicli produttivi, come si faceva c'è la industria 4.0, industria 5.0, permette di aumentare quell'efficienza che oggi è indispensabile poter stare al passo dei tempi. Cioè un'azienda oggi, se non riesce a migliorare il suo ciclo produttivo, se non riesce a produrre di più, in meno tempo, è meglio qualitativamente, è fuori mercato. C'è una competizione talmente ampia, talmente esasperata, che se non si hanno a disposizione gli stessi strumenti che hanno a disposizione gli altri, ovviamente si vengono tagliati fuori dal mercato. Quindi è fondamentale per tutti, per i cittadini e per le aziende, fruire a pieno di queste potenzialità, per proprio il nostro benessere di cittadini e la nostra sopravvivenza come aziende. Grazie Cudia, io la invito a rimanere a disposizione del pubblico qualora ci dovessero essere delle domande. Adesso parliamo con Andrea Polini, chiedo gentilmente di raggiungerci a Davide Cecchini. Allora, Andrea Polini, professore dell'Unicam, Computer Science, e delegato dal rettore alla ricerca. Ecco, scuole e università hanno inserito nei loro programmi le competenze digitali. Quali sono, e meglio, quali saranno talenti e figure professionali richieste oggi per accompagnare e accelerare la transizione digitale? Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Innanzitutto volevo, è chiaro a tutti, credo che sì, parliamo di transizione digitale, ma in realtà forse fra cento anni parleranno di rivoluzione digitale. Rivoluzione è un termine un po' che ci dà più il senso di quanto cambi, quanto è necessario cambiare. Cioè, la rivoluzione industriale è durata 80 anni, parlavano di transizione industriale all'epoca, ma in realtà è stata una rivoluzione industriale, noi la viviamo come una rivoluzione industriale. Questo per dire che chiaramente la necessità è, il cambiamento è talmente ampio, impattante su tutte le, su tutta la società che il ruolo non può essere, chiaramente noi possiamo giocare un ruolo, non mi voglio scaricare le responsabilità, che se le cose vanno male è colpa nostra, nel senso, è chiaro che noi formeremo, sono necessarie delle skill, ma è tutta la società che è coinvolta e già lo vediamo, cioè già non siamo uguali a quelli che eravamo prima del Covid, in quello che facciamo e come ci comportiamo in qualche modo. Quindi è un processo che speriamo essere veloce, ma in realtà richiede molto, molto tempo. Dal punto di vista della formazione io credo che siano molto importanti anche le attività di base, la bussola digitale, cioè comunque appunto perché deve pervadere un po' tutta la società, quindi sono attività che vengono fatte un po', ognuno ha un suo ruolo diciamo anche nella formazione e nella creazione di queste skill sui cittadini. L'università ovviamente si muove io credo su due filoni, perché io vedrei la transizione digitale da un punto di vista dell'operatività e da un punto di vista dell'ideazione e concettualizzazione. Dal punto di vista dell'operatività intendo dire chi opera, cioè chi è capace di produrre sistemi digitali, di produrre sistemi software e quindi l'università è da tempo impegnata in questo, i corsi di laurea in informatica a partire dal 69 a Pisa in poi sono proliferati su tutto il territorio è nata ingegneria informatica e ovviamente la disciplina è cambiata molto prima il corso di informatica era un corso che il bianno era fondamentalmente mappato su matematica perché comunque l'informatica è una branca della matematica oggi ovviamente abbiamo esigenze completamente diverse la disciplina è esplosa nelle sue specializzazioni io credo sia ancora importante anche se è stata ridotta molto la matematica perché non c'è spazio in qualche modo un po' un peccato io credo per chi si laurea in informatica però è sempre importante avere un triennio e continuo ad essere un triennio di base cioè capire che cosa vuol dire approcciare i problemi utilizzando soluzioni informatiche questo è quello che cerchiamo e continuiamo a fare quindi un laureato triennale deve essere capace di in qualche modo muoversi su più fronti è chiaro invece adesso le magistrali si specializzano come dicevo prima i termini che tutti ormai utilizziamo spesso anche a sproposito credo come artificial intelligence cyber security blockchain cloud computing sono stati detti tantissimi è chiaro che anche l'informatico stesso non può essere un esperto di tutto però deve avere gli strumenti per diventare esperto se in qualche modo è necessario faccio un numero 2022 Confcommercio Assinf mi sembra magari non nomino correttamente l'associazione 175.000 posti richieste domanda per skill di informatica che non sono state soddisfatte 45.000 sono state soddisfatte 175.000 in più 175.000 erano quelle che non sono state soddisfatte quindi che cosa vuol dire non voglio dire che tutti si devono adesso iscrivere in informatica però è importante in qualche modo anche che la società cambia un po' la percezione e la rilevanza di queste discipline ma in generale delle discipline STEM probabilmente e un altro aspetto sul quale noi stiamo lavorando è che informatica non viene scelta da una metà del cielo come si dice nel senso che la presenza delle donne è minimale le lauree in informatica hanno un 10% di iscritti donne che non si giustifica da un certo punto di vista questa cosa in passato era vera per matematica fortunatamente non è più vera adesso le iscritte a matematica sono superiori agli uomini però è chiaro che se abbiamo questa esigenza e diciamo come dicevo prima le donne tendono a non iscriversi chiaramente l'utenza è la metà in qualche modo su questo noi stiamo lavorando ci sono anche progetti nazionali su questi tipi di attività per sensibilizzare e comunque favorire l'iscrizione delle donne a informatica come cerchiamo altre cose che noi stiamo cercando come università credo l'internazionalizzazione è importante noi a Camerino abbiamo un double degree con l'Albania e un double degree con la Svizzera portare quindi persone da altri paesi purtroppo gli italiani molti vanno all'estero sarebbe importante cercare di portare che noi al momento a Camerino ci sono sette iscritti alla magistrale che vengono a Tirana e quattro che vengono dalla Svizzera quindi è importante in qualche modo dobbiamo agire cercando di muovere un po' tutte le leve possibili per poter aumentare queste competenze una cosa che proprio volevo aggiungere è come dicevo prima l'aspetto dell'operatività chi è capace di sviluppare invece forse io credo che siamo un po' indietro anche dal punto di vista la formazione è l'aspetto dell'ideazione e concettualizzazione della digitalizzazione cioè non è così pervasiva la competenza informatica io credo che tutti i corsi di laurea debbano avere quantomeno alcuni corsi di base sul pensiero computazionale all'interno della comunità italiana di informatica si parla di introdurre il pensiero computazionale già dagli elementari questo è importante perché non è detto che un buon informatico quindi una persona che è molto brava dal punto di vista operativo sia poi invece brava dal punto di vista dell'ideazione brevemente qualche anno fa hanno sviluppato dentro l'università di Camerino quindi non sto parlando male di qualcun altro un sistema per una pratica burocratica e la la digitalizzazione è consistita nel ripetere i passi che io facevo a penna stampare poi un pdf e consegnare il pdf quello vuol dire fondamentalmente sostituire la penna alla tastiera ma non è un grosso vantaggio fondamentalmente quindi quello che voglio dire era coinvolto un informatico era coinvolto un utente non rendersi conto che quella non è digitalizzazione comunque se è perso un'occasione è un problema quindi deve tutti i corsi laurea secondo me dovrebbero cominciare a avere un minimo di alfabetizzazione comunque una prospettiva perché ripeto idee interessanti vengono a chi conosce il dominio e magari ha un minimo di competenze nell'informatica e capisce che lì può applicare qualcosa non deve essere una persona che poi è capace di far poi si va da chi ha la capacità operativa e sviluppa il sistema questo forse è un passo che manca quindi si si pensa che le 175 mila persone che diciamo posti che non sono stati coperti dovessero essere coperti soltanto da informatici probabilmente no probabilmente bastava qualcuno che ha comunque una sensibilità ha una competenza in un'altra disciplina ma una sensibilità su questo pure noi stiamo intervenendo attiveremo un master a breve che si chiama digital solutions manager proprio rivolto a chi un master di primo livello a chi in qualche modo non non viene da un percorso informatico esiste ad Ascoli una laurea in design per l'innovazione digitale sono stati attivati i corsi in giro per l'Italia che in qualche modo cercano di combinare più competenze che io credo sia il modo migliore davvero per fare la transizione digitale servono tanti informatici ma servono anche molta più competenza molta più pervasività delle conoscenze informatiche interesse sulle conoscenze informatiche non solo sulle buzzwords adesso artificial intelligence sembra che ci possa risolvere tutto molti ne hanno troppa paura qualcuno ne ha troppa poca quindi però bisognerebbe capire che cosa è chiudo dicendo che l'università un'altra io credo in particolare un territorio come questo possa anche fare un po' da volano insieme agli altri enti la sinergia tra la regione e le università del territorio e che quindi ha competenze su queste su queste materie possano anche aiutare un territorio in cui le piccole e medie imprese è difficile cioè non è facile comunque avere persone dentro che possano fare innovazioni quindi anche per i piccoli e medi imprenditori probabilmente rivolgersi agli enti e non quindi pensare di risolvere la digitalizzazione della propria impresa in casa molti piccoli e medi imprenditori sono stati abituati a fare tutto in casa forse è bene invece magari chiedere a qualcun altro non basta assumere un informatico per digitalizzare la propria impresa questa è un po' un'ovvietà ma non so quanto sia un'ovvietà in alcuni casi vi ringrazio e buona giornata e ovviamente rimango ti anticipo rimango se qualcuno ha domande grazie al docente Andrea Polini per rimanere con noi in platea a disposizione del pubblico per le prossime domande chiedo a Saturnino di Ruscio intanto di potersi preparare intanto parliamo con Davide Cecchini il responsabile dei sistemi informatici del comune che oggi ci ospita ecco prima ti vedevo un po' sorridere quando il docente parlava si è parlato quindi tanto di competenze digitali di base dei comuni e quale altro fattore è essenziale per abilitare questo dispiegamento dei servizi pubblici digitali ecco qual è stata la tua esperienza in questo senso noi siamo partiti come comune di Senigallia con innanzitutto l'adozione da parte chiaramente dell'amministrazione di un piano di transizione digitale cioè volontà di questa amministrazione da quando si è insediata l'obiettivo è forniamo Speedpack chiaramente è un obiettivo che abbiamo condiviso anche come struttura che consiste sì diamo le chiavi e poi insegniamo le persone ad utilizzare queste chiavi quindi nell'anno 2021 abbiamo attivato due tirocini formativi proprio per l'obiettivo era supportare le persone all'utilizzo della tecnologia quindi principalmente dei nostri servizi e forniamo e fornivamo Speedpack gratuitamente chiaramente alla cittadinanza cioè non facciamo come altri operatori li invitiamo chiaramente fisicamente nei nostri uffici spieghiamo che cosa è Speed glielo rilasciamo quindi escono un qualcosa di chiamiamolo materiale fisico anche se fisico non è e facciamo alcune prove insieme accediamo al sito dell'Inps al sito del comune quindi siamo partiti nel 2021 con l'idea di strutturare questo servizio oggi per noi è uno sportello quindi un servizio in più che il comune eroga ovviamente quando abbiamo visto questo bando della regione Marche finanziato PNR non ci è sembrato vero cioè assolutamente in linea con la strategia chiaramente finanziato anche con ulteriori fondi che non non ci è dispiaciuto e diciamo abbiamo introdotto questo nuovo servizio questo progetto in corsa e diciamo abbiamo dei numeri stabili oltre a questo che vanno diciamo nella stessa ottica abbiamo partecipato quindi partecipiamo già da due anni al progetto Ancilab quindi con ulteriori due ragazzi del servizio civile digitale così facendo riusciamo a coprire 50 ore settimanali quindi tutte le mattine più il mercoledì e il giovedì dei nostri punti di facilitazione quindi riusciamo ampiamente a soddisfare quello che è l'utenza poi non lo so se siamo stati fortunati ma io penso che siano bravi quindi la selezione da parte diciamo di Regione Marche diciamo dell'operatore economico ci ha mandato due ragazzi fantastici che io voglio ringraziare uno è presente qui in aula Eric Silvi l'altro è Marco Bevilacqua perché fanno veramente la differenza al di là della formazione c'è l'empatia verso i nostri cittadini quindi mi ritornano sempre dei figli perché sono stato da quei ragazzi bravissimi mi ha aiutato là quindi fa sempre piacere quando magari può sembrare un progetto minore anche dal punto di vista economico rispetto alla banda ultralarica ma vi assicuro che fa veramente la differenza e poi si trova anche nella persona più grande quell'umanità che è pazzesca quindi dico sempre quando abbiamo attivato questo tirocino mi piace raccontarlo si presenta una coppia di signori gli risolviamo diciamo gli diamo questa identità questi accedono al sito dell'Inps e vedono la pensione il giorno dopo si presenta con un po' soglio di Castagnola da questo periodo e quindi è fantastico è risolto veramente il problema è toccato quindi il mio suggerimento e ringrazio diciamo per anche quello che diceva l'assessore di proseguire se attiviamo questo servizio e poi prende piede non si può smettere deve continuare deve assolutamente continuare secondo me in qualche maniera io già un po' di richieste in bilancio l'ho fatta però chiaramente avere un servizio sul territorio regionale strutturato dove c'è chiaramente un mantenimento dello standard uguale per tutti penso che sia vitale quindi ecco pensiamoci un attimo e l'invito è cerchiamo di proseguire anche dopo il 2025 facendolo diventare veramente un nuovo servizio ad alto valore che diamo a tutti noi sostanzialmente grazie grazie Cecchini quindi la risposta al digital divide del face to face intervengo a gamba tesa no scusate ma solo per dire questo perché Davide ha detto che il servizio che fanno qui ha dei numeri stabili in realtà il comune di Senigallia è quello che performa meglio nella classifica dei facilitatori digitali e allora il messaggio che vi lancio è anche questo cioè i facilitatori funzionano molto bene dove anche da parte del comune c'è un un feeling sono loro del comune che erogano servizi digitali che vogliono che la popolazione li conosca questo tandem questa corrispondenza fa sì che Senigallia sia uno dei comuni che performa meglio lo volevo dire perché è ringraziare il comune di Senigallia che ci ospita grazie ancora quindi un doppio grazie prima di passare a Saturnino chiedevo gentilmente a Sonama Sobrio di raggiungerci per il prossimo intervento dicevo Saturnino di Ruscio già sindaco di Fermo ora collaboratore di Visit Italy digitalizzazione promozione territoriale e turismo ecco quali sono le ricette per portare visitatori o addirittura residenti nei nostri comuni bene io racconterò una storia più che altro che è frutto anche delle tante esperienze fatte nella nella mia vita io non sono un esperto di tecnologie non sono un esperto di banda larga però come tutti noi viviamo immersi a queste tecnologie da ragazzo ero presidente dei giovani agricoltori e mi occupavo di come gestire meglio le aziende agricole con l'utilizzo del computer per fare esempio poi da sindaco partecipiamo come copone capofila al progetto Tecut tecnologia utile che aveva un grosso successo all'inizio degli anni 2000 come dirigente comunale mi sono occupato di turismo cultura e altre cose nelle quali abbiamo presposto il sito per la cultura per i musei per il turismo c'era prodotti digitali quindi comunque la digitalizzazione l'informatica c'era fa parte ormai della vita di ognuno di noi dell'attività lavorativa in ultimo come è stato detto al termine del mio ciclo di vita diciamo naturale sto in pensione e quindi collaboro con una società dove ci occupiamo di promozione turistica di promozione del territorio con il marketing quindi turistico attraverso il digitale quindi marketing turistico digitale è evidente che promuovere il territorio e qui faccio i complimenti anche alla regione Marche per il progetto sui servizi digitali integrati perché ha dato a imposto proprio come necessità di fare squadra quindi mettere insieme non solo il comune ma anche gli operatori privati le associazioni per la costruzione del progetto ma anche per la promozione e la diffusione del progetto quindi quando parliamo di promozione del territorio parliamo di fare rete e di fare squadra noi ci siamo occupati prevalentemente di progetti abbiamo supportato i comuni nei progetti sull'entroterra e molto spesso si dice che l'entroterra rappresenta un po' a grandissime potenzialità e devo dire nella storia che vi racconto che effettivamente in un comune ci siamo incontrati con uno strano personaggio dico strano perché trovare il presidente di una grossa multinazionale svedese che viene a vivere in un comune dell'entroterra posso dire anche qual è Massafermana mi ha destato grande curiosità dico perché adesso lui è in pensione però un uomo di quel genere che può scegliere qualsiasi parte del mondo viene a vivere nelle Marche sotto l'Appennino in un comune piccolissimo meno di mille abitanti che si chiama Massafermana lo posso dire perché quel comune noi non abbiamo non ci abbiamo collaborato quindi non faccio pubblicità e quindi l'ho voluto intervistare gli ho chiesto come mai come aveva conosciuto le Marche come era arrivato qua giù e mi ha parlato attraverso comuni amici che erano già venuti a vivere nelle Marche e quindi passa parola però ho detto qual è la motivazione per il quale un personaggio del genere decide di venire a vivere nelle Marche a parte il clima mediterraneo ma il paesaggio la natura è un po' incontaminata come quella anche se diversa come quella del nord Europa quindi si trovano a proprio agio in ambienti naturali i costi di acquisto di strutturazione degli immobili sono molto bassi rispetto ad altre zone non solo del nord Europa ma anche d'Italia in poco tempo comunque può raggiungere anche Roma Bologna eccetera quindi nonostante le difficoltà che abbiamo nelle infrastrutture comunque per lui questo non era un problema e in ultimo cosa che non avevo mai considerato che la tassazione nel nord Europa è più alta rispetto a quella diciamo della italiana e quindi c'è anche una convenienza economica a venire a vivere nelle marche e tutto questo mi ha fatto capire che comunque noi oggi possiamo promuovere il nostro territorio in un mondo globalizzato dove 5 miliardi e mezzo di persone utilizzano il telefonino quindi 5 miliardi e mezzo di persone utilizzano il telefonino e dove il 60 70% delle persone decidono di fare un viaggio dove e come farlo attraverso questo strumento attraverso la rete social attraverso internet quindi questo sta a significare che oggi la promozione di un territorio trova una grande agevolazione attraverso l'utilizzo della digitale e attraverso la comunicazione attraverso i canali social quindi come è stato già detto dal professore dell'università mi sembra di di Camerino oggi questi strumenti possono portare veramente a un cambiamento radicale della nostra comunità offrono grandi opportunità e si è parlato di rivoluzione industriale io in un'altra occasione ho parlato del passaggio dal manoscritto al libro stampato quindi anche lì ci fu una grossa diffusione della conoscenza e una grossa trasformazione della società e quindi ecco oggi si può fare promozione promozione turistica a costi sostenibili attraverso la digitalizzazione del territorio attraverso la comunicazione e su questo ripeto il bando regionale ha dato la possibilità anche a piccoli comuni oggi di poter aspirare avere una visibilità nel mondo e quindi poter attrarre chiudo con un aneddoto ma è una cosa storia vera ho fatto amicizia con questo personaggio svedese che vive qui nelle Marche adesso lui sta mettendo in piedi un progetto ha censito gli edifici abbandonati dell'entroterra nella sua zona a cavallo tra macerata fermo e ascoli ha contattato alcune aziende dell'edilizia per verificare i costi di ristrutturazione ha parlato con un commercialista o più commercialisti per individuare tutte le procedure per far venire qui in Italia altri personaggi diciamo del suo livello per venire a vivere qui nelle Marche per semplificare diciamo anche le residenze tutte quelle che sono le pariche pratiche burocratiche e fiscali e poi partirà promuovendo le Marche l'entroterra marchigiano nel nord Europa soprattutto nei paesi del nord Europa per trarre poi lui un beneficio economico attraverso diciamo la vendita di questi servizi tutto questo non avrebbe potuto avvenire se non ci potrà avvenire dico in tempi anche molto cerchi attraverso proprio la digitalizzazione e la comunicazione attraverso la promozione attraverso diciamo i canali social che oggi raggiungono miliardi di persone la trasformazione è in corso e tutto sta a sapere approfittare della tecnologia che oggi ci sono grazie prego lascia pure sul tavolo grazie mille per il suo contributo penultimo per il momento in scaletta quello di Sonia Massobrio titolare della società di consulenza ICT Synthesis 3 chiedo gentilmente ad Alessio Gasparini intanto di raggiungerci grazie mille al centro dei progetti per il borgo digitale diffuso il parternariato pubblico privato ecco quanto è importante questa sinergia questo tandem come dicevamo poc'anzi allora intanto grazie grazie all'assessore grazie alle strutture della regione Marche che che testimoniano ancora una volta che siamo una piccola regione che sappiamo vendere poco i nostri progetti le nostre progettualità le nostre capacità perché come testimoniava di Ruscio poco fa succedono delle cose che poi no ci stupiscono ci stupiscono io vengo sono nata in Emilia Romagna ma sono da adozione all'inizio a Scolana e poi oggi sono in provincia d'Ancona e debbo dire che noi perché ormai mi sento marchigiana ci stupiamo sempre di noi stessi quindi mi ha fatto molto piacere insomma sentire anche le testimonianze che mi hanno preceduto allora io riprendo alcune parole chiave che sono state dette fino adesso e la prima è rivoluzione rivoluzione e cambiamento che cosa significa questo sul piano poi della capacità che anche le imprese devono avere nell'interpretare questo cambiamento è un nuovo ruolo del privato rispetto alle opportunità di sviluppo delle progettualità digitali e di innovazione cioè il cambiamento che il digitale porta è così pervasivo così disruptive che introduce fortemente un nuovo modello di sviluppo sostenibile questa è una grandissima opportunità che noi abbiamo e riprendo fare squadra fare sinergia mettere in rete ma per un fine comune quella capacità di sviluppare valore sostenibile non industriale non solo che l'informatica la tecnologia aumenta le performance produttive noi siamo di fronte a uno sviluppo che oggi ci dimostra costantemente che non è sostenibile dal pianeta non è sostenibile dal nostro potere d'acquisto non è sostenibile dal nostro background di proprio esseri umani allora il parnariato pubblico privato è un dispositivo uno strumento che il codice degli appalti mette a disposizione ormai da anni è partito con il project financing oggi diventa attraverso la coprogettazione una grande opportunità di generare e ridistribuire valore noi abbiamo partecipato alla progettazione di alcuni gruppi di comuni nell'ambito del bando proprio di cui si parlava poc'anzi sui servizi digitali integrati fra cui proprio anche il comune di Senigallia e abbiamo cercato di interpretarlo in questa chiave qui le nostre progettualità nascono come dei laboratori di collaborazione fra l'università quindi la ricerca l'innovazione la conoscenza la capacità di trasferire conoscenza all'interno dei progetti al tessuto territoriale coinvolgendo le piccole realtà che stanno sul territorio e che riescono a impreziosire quelle perle che noi abbiamo e che non riescono ad uscire da lì invece questi progetti devono riuscire a valorizzare a mettere in evidenza a poter mettere a disposizione con modelli di business di ecosistema digitale oggi non è più nemmeno fare rete non è più nemmeno fare sinergia è fare ecosistema fare ecosistema significa essere capaci di fare quell'effetto volano ma intercettando tutti i soggetti della nostra filiera del valore che nei piccoli borghi oggi sono l'elemento vitale cioè le associazioni gli appassionati i volontari le piccole realtà che cosa stanno facendo lì stanno facendo la loro resilienza per salvaguardare fino alla fine la propria identità quindi questo tema l'identità la capacità di farne un valore un valore collettivo attraverso il parnariato pubblico privato diventa veramente praticabile questo significa dividere una torta in pezzi più piccoli ma moltiplicarne questo valore e noi ci creiamo molto noi ci siamo messi in gioco quindi abbiamo cercato di metterci proprio anche in una logica di proprio di partner partner di un'iniziativa metterci in gioco con una responsabilità che oggi questa rivoluzione deve trovare tutti chi ha più saggezza chi ha più esperienza insieme a chi invece ha l'inesperienza nasce digitale e deve avere la memoria gli dobbiamo dare la memoria e lui ci deve restituire la nuova visione del mondo ecco questo secondo noi è il nuovo modello di sviluppo sostenibile che nei territori delle aree interne che nei borghi è l'unica strada è sicuramente l'unica strada e questa cosa la dobbiamo al digitale cioè è possibile attraverso il digitale quindi questo secondo me è è un po' come posso dire la visione che dobbiamo avere la possibilità vera in questa rivoluzione di essere tutti dei protagonisti quindi partnariato pubblico privato tutta la vita direi no grazie prego può passare il microfono ad Alessio Gasparini coordinatore di Open Fiber Marche ecco lo stesso Firouge quanto è importante la Bull di cui abbiamo parlato oggi per il nostro territorio allora intanto buongiorno a tutti e ringrazio la regione Marche per l'invito è un onore essere qui oggi con tutti voi in questo splendido contesto cambia tutto secondo me secondo noi già chi mi ha preceduto ha toccato poi i punti focali che secondo me in realtà sono tre diciamo che questa nuova autostrada digitale aumenta quella che è la competitività del territorio è un utile volano di sviluppo economico ma soprattutto ha un fortissimo impatto sociale andando a colmare quello che fino a pochi anni fa era un divario digitale molto importante e la riduzione di questo divario già oggi ha consentito per fare esempi concreti ad un'azienda di Cupra Montana che non è molto distante da qui che fa carpenteria metallica di ridurre tempi di comunicazione e scambi con clienti e fornitori o ad una cantina di Montefiore dell'Aso rimanendo nelle Marche è un'altra provincia ma siamo qui vicino di aprirsi all'internazionalizzazione e ampliare effettivamente il proprio mercato nuova opportunità quindi ma anche servizi quindi abbiamo parlato di smart working quindi tele lavoro telemedicina smart cities sono alcuni dei servizi che sono stati abilitati già oggi nella nostra rete dalla nostra rete ma abbiamo anche dei progetti speciali cito ad esempio il fiber sensing così l'abbiamo chiamato che è una tecnologia che attraverso la fibra ottica ci consente di monitorare quotidianamente anzi istante per istante lo sciame delle onde sismiche su una determinata tratta al momento è attiva tra Ascoli Piceno e Teramo e siamo in contatto poi con l'Indrim che è l'ente di misurologia italiano per monitorare appunto questi sciami sismici o comunque onde sismiche non è però diciamo solamente una questione professionale oltre al lavoro anche intrattenimento relazioni e servizi passano attraverso la rete e quindi un miglioramento delle infrastrutture digitali si traduce si è tradotto in un miglioramento per la vita delle persone e oltre ai numeri che già abbiamo visto e citato è proprio questo che ci rendono orgogliosi grazie grazie per questo suo contributo sintetico ma davvero dritto al core se ci sono domande dal pubblico prego se si si può accomodare qua prendere il gelato verde prego e se si presenta corrisamente con piacere Stefano Giraldi mi metto qui così ho modo anche di vedere contatto visivo un po' con tutti Stefano Giraldi del comune di San Costanzo provincia di Pesor Urbino qui vicino sul confine con la provincia d'Ancona sulle prime colline tra la città balneare di Fano Marotta anche San Costanzo caratteristiche rurali 40 km quadrati di territorio tre borghi storici 4.600 abitanti 2.600 famiglie circa più due zone artigianali oggi sono partito dai numeri per questa considerazione e condivisione perché oggi ne sono stati detti diversi e quello che mi ha un po' più colpito è stato quello iniziale nella brochure il comunicato stampa in cui si parlava di un 90% di copertura generico come concetto 90% di copertura quando poi dopo però nei fatti nell'utenza il comune di San Costanzo ha effettuato la conferenza dei servizi per la banda ultralarga nel dicembre del 2019 i cantieri sono partiti per precisione ma mi sono puntati per non perderli questi quindi 2019 2021 2021 l'inizio dei lavori con continui adesso me lo sono perso inizio dei lavori 2020 l'anno successivo continui slittamenti di date di inizi lavori continua interlocuzione con la regione fino al 2022 alcune delle quali finite anche con un carattere politico con il precedente assessore Carloni in cui noi come comune spesso e volentieri siamo il primo punto di contatto con i cittadini con le attività economiche e ci siamo messi nel mezzo sapendo di non avere nessun controllo su questo progetto nazionale e d'ora alla fine del 2000 e all'inizio del 2024 l'ultimo slittamento odierno ho parlato con il capo progetto che l'ultima data era marzo 2024 potrebbe essere la fine del 2024 fine 2024 come fino di cantieri ma come abbiamo visto anche oggi stiamo parlando di fine del cantiere in cui poi dopo c'è un collaudo e benché vada una vendibilità attiva per l'utenza ipoteticamente 2024 potremmo parlare del 2025 dieci anni dopo che il progetto Bull a livello governativo è stato finanziato e lanciato come iniziativa strategica per il paese il punto torno dal 90% se guardiamo il vendibile la percentuale è del 30% ancora c'è un 30% da coprire c'è un 30% di territorio che è in attesa di poter usufruire di questi servizi di connettività in un periodo in cui io vengo dal settore tecnico informatico l'abbiamo visto con l'intelligenza artificiale come tecnologia c'è un'accelerazione esponenziale di nuove tecnologie che sono dirompenti su quelle che sono le dinamiche delle attività economiche e così via quindi il punto è sintetizzando questo quadro mi sono permesso di fare questo quadro siamo in ritardo siamo molto in ritardo dieci anni dopo sull'esigenza soltanto di avere disponibilità ormai di non qualcosa di innovativo ma ormai è una commodity così come è una commodity avere l'energia elettrica a casa la commodity di avere il cavo per la banda ultralarga e comunque in modo corretto e positivo esporre oggi tutti i vantaggi della tecnologia però serve anche un po' di correttezza rispetto all'utenza che si aspetta questo servizio disponibile noi nel territorio di San Costanza abbiamo due plessi scolastici che a livello comunale abbiamo comperto con un FWA di iniziativa privata dopo connettività DSL che non funzionavano e gli stessi dirigenti si stavano nel periodo del covid hanno coperto questa esigenza con delle sim cioè veramente ci si sta rabbattando un po' con quello che capita e questo ancora marca di più ormai l'imprescindibilità di arrivare ad un 100% ma della attivazione presso l'utenza perché come territori comunali come enti comunali massima disponibilità nella diffusione così ma di fondo se la tecnologia ancora non è attiva continuiamo dopo dieci anni a parlare di buone pratiche buone iniziative che vanno nell'innovazione ma che non sono tangibili scusate grazie grazie a lei per la sua testimonianza se vuole rispondere aggiunge qualcosa il turismo è molto legato alla tecnologia turismo e digitale sono le mie due deleghe la prossima settimana il comune di San Costanzo sarà capitale della cultura insieme con la città di Pesaro quindi invito tutti i presenti avrete probabilmente l'occasione di vedere San Costanzo sul Tg regionale di venirci a visitare grazie e facciamo ecco se vogliamo concludere aggiungere qualche cosa concludo aggiungendo il fatto che il comune di San Costanzo è uno dei 18 che vediamo prima purtroppo no quindi non stiamo raccontando favole purtroppo San Costanzo ha una storia un po' particolare come diciamo tutti gli altri che sono rimasti e in questo caso specifico abbiamo avuto difficoltà estreme con poi l'impresa esecutrice che è incaricata di effettuare i lavori quindi diciamo sicuramente c'è stato un ritardo e questo è evidente su questo singolo comune sicuramente ci stiamo dando da fare per poi sistemare e bonificare la situazione le date che vediamo prima sono impegni che ci siamo presi quindi sicuramente c'è attesa e lo capisco siamo qui per fare le cose non per promettere ok dopodiché chiaro che incontriamo tutti i giorni una serie di difficoltà veramente incredibili che vanno gestite e vanno incanalate nel flusso giusto nel flusso corretto poi volendoci possiamo pure fermare un attimo se anche altre situazioni particolari da da dirmi però insomma ci stiamo attivando per effettivamente chiudere e l'obiettivo è chiaro è quello di cui parlavamo poco fa grazie ci sono altre domande dal pubblico altri interventi prego e se si presenta grazie buongiorno Bartocci Luigi Nazareno sindaco di Sanatoglia siamo uno dei comuni attivi e attivati detto questo non è che tutto quanto funzioni benissimo ma innanzitutto volevo da un lato complimentarmi con la Regione Marche per iniziativa per il lavoro che sta facendo c'è stata un'accelerazione atteso quanto ho sentito poc'anzi probabilmente i tempi sono molto più veloci delle nostre procedure ma questo gioco forza chi come la dottoressa e la dottoressa dell'altro settore sa che confrontandosi poi con le varie normative con i procedimenti con la comunità europea è complesso e complicato quindi se qualche ritardo c'è a livello burocratico sono comprensibilissimi io vengo da un comune sono il sindaco del comune di Sanatoglia quindi faccio anche io pubblicità a progresso come ho fatto poc'anzi per dirle che se adesso io nominassi Sanatoglia qui sfido alzar la mano chi conosce il mio comune nessuno due tre basta se no poi mi smentite mi smentite subito no questo per dire che nonostante che e faccio la battuta è uno dei borghi più belli d'Italia è spigaverde per l'ambiente sta all'interno della sinchinale Camerte una delle più belle vallate c'è l'unità diversità di Camerino vicino stenta forse sarà il nome forse Santa Anatolia che era il nome storico era più accattivante stenta ad essere conosciuto e riconosciuto quindi sono questo per dire quanto sono importanti le autostrade quelle fisiche quelle digitali quanto è importante e qui lo faccio veramente facendo i complimenti alla regione Marche per le ultime due tre iniziative dal punto di facilitazione non ce l'ho nel mio comune quindi mi attiverò subito con la bussola digitale adesso vado da quei ragazzi e li porto con me a pranzo per vedere come attivare il percorso ma soprattutto la piattaforma e il bando messo a disposizione perché e faccio una battuta se digitate su internet di Sanatolia troverete probabilmente perché sono anni che ci ragioniamo su queste cose io per carità ho forse stufato anche la mia presenza stufato in giro per le varie riunioni in cui parliamo di sinergie di mettere insieme di mettere in rete di fare attivazione condivisa tutto questo per dire che se digitate di Sanatolia troverete 7, 8, 10 14 siti che magari in maniera di forma dissonante mettono in giro notizie o tentano di fare promozione e ora è benissimo il bando e quindi ancora ringrazio che di questo si faccia sintesi soprattutto che il motore di ricerca o piuttosto quelle che sono le varie sinergie da mettere poi a terra sul territorio poc'anzi non mi ricordo chi era l'interlocutore che ha parlato si parla dell'associazionismo è fondamentale nei piccoli borghi perché poi parliamoci chiaro è proprio il volontariato molto spesso che rende vive le nostre le nostre piccole comunità quindi questo è importante perché serve a poco che vengano veicolati questi messaggi dopodiché non sarà per il futuro un caso quello che diceva il collega sindaco di Ruscio che è stato uno dei sindaci più importanti da tantissimi anni non sarà un caso che qualcuno verrà a vivere o potrà creare opportunità in questi territori proprio perché e io faccio spesso la domanda perché per lavoro vado in giro nelle città e mi domando da marchiciano ma chi glielo fa fare questi che sta a Roma con tutto quel casino per stare in un call center piuttosto che per fare attività che si possono fare con la banda larga magari affacciati dal castrum dei sanatoi piuttosto che dalla rocca roveresca piuttosto che dalle colline del ginesino probabilmente la conoscenza e le autostrade digitali che sono fondamentali tutto questo potrebbe essere motivo di ulteriore sviluppo e può essere sicuramente saper cogliere nuove opportunità l'importante è che ci muoviamo il dato un po' dissonante di oggi che mi ha fatto un po' riflettere se con Open Fiber con il progetto Bull abbiamo buona parte ripeto io sono uno dei fortunati perché sono due anni che attiva un anno e mezzo se però ancora c'è una scarsa tra virgolette percezione o attivazione da parte dei cittadini probabilmente qualche problema ci sarà ora immagino che gli operatori che sono i vostri partner abbiano tutto l'interesse di vendere servizio perché fanno quello del mestiere probabilmente ci sarà qualche problema all'interno forse qualcosa manca nella nostra comunicazione e quindi su questo dobbiamo secondo me concentrarci per risolvere quelle che possono essere l'accelerazione delle varie procedure e soprattutto quella che può essere la percezione all'esterno perché è una grandissima opportunità specialmente per i territori tra virgolette marginali ma che storicamente e culturalmente marginali non lo sono mai stati e devono tornare ad essere centrali in un sistema sinergico che la regione Marche mi sembra abbia messo al centro della situazione politica concludo augurandomi che tutto questo prosegua e mi vado a sedere vicino a quei ragazzi grazie mille grazie a lei sindaco ci sono se non ci sono altri interventi possiamo chiudere il la tavola rotonda e salutarvi da questo secondo appuntamento sulla banda ultra larga nelle Marche non posso che ricordarvi di continuare a seguire tutte le iniziative gli eventi e i bandi messi a disposizione dalla regione Marche sul sito www.europa.marche.it io vi ringrazio ancora per la vostra presenza qui oggi e vi do appuntamento al prossimo evento buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti